allora buongiorno a tutti io sono laura marzocca della scuola di formazione della regione marche in questo seminario inizialmente previsto in una giornata di sette ore di formazione in aula come sapete è stato trasformato per via dell'emergenza sanitaria in due webinar quindi questa mattina e dalle nove a mezzogiorno e mezzo questo seminario fa parte del nostro programma triennale di seminari informativi rivolto ai pendenti degli enti locali per il triennio 2020-2022 finanziato in parte da fondi regionali dal fondo sociale europeo fsi nell'ambito del programma formativo triennale sono indicati degli ambiti di marce diversi seminari e in particolare questo fa parte dell'ambito delle qualità del tempo settoriale per consultare il nostro calendario di seminari fino a dicembre diciamo è sul sito della regione marche sezione regioni utile enti locali il seminario di oggi dal titolo basso valutazione ambientale strategica aggiornamenti normativi nazionali nuove linee guida regionali tratterà appunto della basse e delle nuove linee guida regionali approvate per la dgr 16 47 del 2019 che rappresentano uno degli strumenti appunto per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale sostenibile come docenti vi presento il professor elio otto robert laniato universitario e docenti di corsi di aggiornamento in materia di valutazione ambientale avremo un'introduzione per gli aspetti e le declinazioni regionali di materie da parte di colleghi del servizio per la gestione setti del territorio e delle pf bonifiche fonti energetiche cioè la professoressa patrizia tra comina e il dottor fulvio cosi vi spiego le modalità di interazione con la piattaforma potete alzare la mano premendo il tasto con il disegno della maniera in modo che io possa aprirvi l'audio e ascolteremo così la domanda direttamente dalla vostra voce altrimenti potete scrivere nella chat delle domande e io leggerò la domanda al docente prima o poi delle brevi anche pause ogni blocco gli argomenti per permettervi di riposarvi in più diciamo altrimenti di un argomento potete presentare queste domande io vi lascio alla lezione buongiorno io sono patrita giacomina e faccio una breve introduzione e vi spiego come mai questo corso è inserito all'interno della definizione della strategia regionale di sviluppo sostenibile come regione marche mi sentite come regione marche stiamo appunto definendo la strategia regionale di sviluppo sostenibile e chiedo se può andare avanti con le slide e si inserisce nel quadro mondiale dell'agenda onu 20 30 che è stata ricevuta a livello italiano dalla strategia nazionale di sviluppo sostenibile e che adesso le regioni stanno diciamo definendo all'interno di questo quadro le rispettive strategie regionali di sviluppo sostenibile queste strategie vengono definite grazie alla collaborazione con il ministero dell'ambiente e appunto grazie ad una degli accordi specifici in cui ogni regione ha indicato il percorso per la definizione e la strategia regionale di sviluppo sostenibile è un piano diciamo di indirizzo di orientamento che non ha risorse proprie e non non è un piano diciamo settoriale ma è un piano di riferimento al quale sia la pianificazione settoriale che anche diciamo fonti di finanziamento quali la futura programmazione europea 2021 2027 dovranno guardare come anche il def che il documento di economia finanza regionale e dovrà in qualche modo colloquiare con la strategia regionale di sviluppo sostenibile che ha diciamo l'obiettivo principale è di garantire diciamo il benessere delle persone e un benessere socio economico delle persone quindi una strategia che non è settoriale non parla solo di ambiente ma parla di sociale di economico e di ambiente strettamente correlati e ha diciamo l'obiettivo grande che si dà e l'innovazione di questa strategia di sviluppo sostenibile è proprio un'innovazione di processo nel senso che si la stessa diciamo cabina di regia che l'organo di governance che gestisce la strategia di sviluppo sostenibile è formata dai dirigenti dei servizi della regione marche proprio per questa trasversalità di obiettivi che deve cercare di diciamo massimizzare l'obiettivo non tenendo chiuso l'argomento un settore rispetto all'altro ma cercando appunto di lavorare nell'ottica dello sviluppo sostenibile mantenendo diciamo insieme i tre pilastri che sono tipici dello sviluppo sostenibile che sono appunto lo sviluppo economico sociale e ambiente per la definizione della strategia abbiamo iniziato a fare diverse presentazioni appunto di questo percorso e adesso stiamo facendo con un po di ritardo appunto causa covid e dei momenti di consultazione territoriale anche questa consultazione territoriale è una consultazione aperta è una consultazione che in questo momento io definisco extante nel senso che la strategia non è scritta ma la consultazione serve proprio per scriverla insieme ed è una consultazione condivisa che parla sia ai cittadini ma anche sotto due forme diciamo ai cittadini attraverso il forum regionale dello sviluppo sostenibile e a organismi stakeholder tre identificati attraverso dei workshop ad invito e che appunto stiamo svolgendo e come facciamo a fare questi diciamo queste consultazioni queste consultazioni le facciamo sviluppando e cercando di portare all'attenzione 5 scelte strategiche che la regione marchi ha approvato con dgr 304 del 2020 e queste cinque scelte strategiche se ti chiedo fulvio se puoi andare avanti e queste cinque scelte strategiche sono delle scelte strategiche molto larghe che portano dentro come vi dicevo la trasversalità e quindi non si fermano nei confini settoriali ma ogni scelta strategica dialoga con settori e funzioni diverse all'interno della regione e in base a queste cinque scelte strategiche stiamo appunto consultando con queste due forme di consultazione e i cittadini anche gli enti le imprese le organizzazioni diciamo le associazioni di categoria il coinvolgimento è veramente molto molto ampio e affinché si identificano quali si possano identificare diciamo gli obiettivi principali del prossimo triennio la strategia come vi dicevo è collegata al def che ha una programmazione del bilancio triennale quindi è un documento triennale una volta appunto identificati diciamo qual è la direzione sulla quale appunto la la regione marche vuole vorrà diciamo andare in questo triennio si identificheranno gli indicatori per il monitoraggio e questo il monitoraggio è strettamente legato alla valutazione ambientale strategica nel senso che una parte degli indicatori della strategia regionale di sviluppo sostenibile saranno indicatori che dovranno essere obbligatoriamente diciamo popolati e recepiti in tutte le valutazioni ambientali strategiche dei piani settoriali e come già ha impostato e come già è previsto diciamo nell'ultima dgr del 2019 e sulla vas le scelte strategiche quali sono e sono cinque scelte strategiche la prima scelta strategica parla di prevenire ridurre i rischi di catastrofi riducendo l'esposizione ai pericoli e la vulnerabilità aumentando così la capacità di risposte di recupero rafforzando la resilienza quindi il termine di resilienza che abbiamo messo in rosso per connotare diciamo la questa scelta strategica che brevemente chiamiamo resilienza dei territori non è un mero adattamento succede qualcosa io mi adatto no deve essere vista in modo preventivo perché ovviamente come ormai sappiamo purtroppo sì la nostra regione è soggetta a terremoti ogni x anni ma anche diciamo a rischi quali alluvioni diciamo frane e quindi bisogna iniziare a ragionare diciamo in termini preventivi e non più diciamo di emergenza la seconda scelta che può essere magari molto simile e ricollegata a delle catastrofi e quelle dei cambiamenti climatici che però abbiamo deciso di mettere in modo diciamo tirarla fuori perché è una problematica che stiamo vivendo stiamo vivendo con dei cambiamenti che sono sia lenti ma ci sono anche dei cambiamenti abbastanza veloci che ci stanno modificando i nostri stili di vita e anche l'ambiente in cui viviamo e quindi per la portata e la grandezza è stata appunto identificata come scelta strategica sia per tutti gli effetti che ha sulla vita nostra e anche sulla sulle relazioni sociali ma anche sulla economia e diciamo sull'ambiente sulle infrastrutture la terza scelta è riconoscere i valori dei servizi ecosistemici e quindi tutelare la biodiversità dove i servizi ecosistemici sono diciamo quei benefici che in qualche modo l'ambiente in cui viviamo ci fornisce quindi una qualità dell'aria buona che ci permette di respirare una qualità dell'acqua appunto l'acqua potabile e il suolo che ci permette appunto di avere del cibo da mangiare e la quarta è legata molto più diciamo alla persona e all'ambito del sociale perché ha l'obiettivo di perseguire l'equità tendendo verso l'eliminazione della povertà e la sperequazione dei benefici dello sviluppo e realizzazione di condizioni di dignità per la vita di ogni persona e anche qua deve essere vista in modo integrato anche nella stessa pianificazione diciamo urbanistica che fa il singolo comune non è più possibile che che non si tenga conto del sociale perché una pianificazione diciamo sbagliata una nuova organizzazione può creare delle situazioni di marginalità che poi vengono gestite diciamo a valle dai servizi sociali forse in modo non corretto se invece anche tutta la parte diciamo del sociale della gestione dell'equità della povertà viene inserita a monte nella pianificazione quindi viene inserita a livello programmatorio e forse ecco si riducerebbero le problematiche che stiamo affrontando e l'ultima è invece una scelta di innovazione industriale di ricerca industriale e parla con il linguaggio diciamo dell'economia circolare della green economy e anche questo ovviamente si porta dietro il concetto di benessere della persona di appunto mondo lavorativo si è visto anche dai vari rapporti che vengono pubblicati che un'azienda green un'azienda innovativa un'azienda che ha più possibilità di mantenersi sul mercato quindi ha più possibilità di offrire lavoro alle persone e e quindi diciamo a maggiori ecco maggiori opportunità sul mercato e io passo la parola invece al mio collega che vi introdurrà in modo più specifico la nuova diciamo dgr del 2019 e le linee guida qualitative sulla vas sono tutti sono fulgiotosi probabilmente parecchi di voi già mi conoscono perché mi occupo di rotazione ambientale strategica e un po di tempo per lo sviluppo sostenibile quello che vedete qui in questa slide sono dei comni dell'articolo 3 quater del decreto legislativo 152 di solito non vengono considerati non vengono nascosti questi articoli perché chi si occupa di vas sappiamo parte dall'articolo 6 ma sono importantissime nella vas perché abiliscono i criteri stabiliscono gli obiettivi di fondo e in fonte anche i criteri principi ai quali occorre attenersi nella conduzione del processo di vas il termine sviluppo sostenibile come vedete è citato all'inizio citato ma in realtà è la definizione sviluppo sostenibile e il comma 4 dalla direzione la bussola quando in quanto nel momento in cui abbiamo qualche problema da risolvere dice che prima di tutto va salvaguardato il corretto funzionamento dell'evoluzione dei sistemi degli ecosistemi naturali qui trovate anche le in parte le regioni delle scelte strategiche delle prime scelte strategiche che avete visto fa dunque la base sappiamo tutti che è una votazione ambientale che si fa che riguarda i piani programmi avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ma in questo caso siamo tutti perfettamente coscienti che non non è semplicemente un adempimento obbligato obbligatorio per legge e l'importante è avere un rapporto ambientale fare d'accordo alla fase di minima rapporto ambientale e poi alla fine produrre un parere motivato dovremmo porre l'attenzione su alcuni punti significativi della buss e ad esempio noi nel gr 1647 ma anche nel documento di indirizzo che penso che conosciate tutti numero 13 del 2020 di quest'anno mettiamo l'accento sulle alternative è un qualificante della buss perché a differenza di altre valutazioni ambientali con con la buss si cerca di dare un indirizzo verso la sostenibilità non si non si parte quantomeno si dovrebbe partire da assunti immutabili ma dovrebbe capire quali sono le alternative perché comunque ci sono sempre le alternative di pianificazione programmazione alle volte sono scelte implicite che che vengono fatte durante il processo di definizione di un piano programma stabilendo di andare in una direzione piuttosto che in un'altra non si tratta di costruire più piani grandi ma di capire che in un determinato momento del processo di pianificazione programmazione quali sono le scelte che poi portano in una direzione piuttosto che in un'altra alcune di queste direzioni vengono abbandonate ma comunque sono le alternative che in ogni caso le quali in ogni caso dovrebbe essere data evidenza e motivare del perché si è presa una determinata strada le alternative vanno valutate in realtà sempre è un momento punto implicito ma in realtà nel rapporto ambientale bisognerebbe dar conto del perché si è preferita un'alternativa piuttosto che un'altra altro punto fondamentale della vasta il monitoraggio non avrebbe tanto significato fare una valutazione ambientale strategica e chiuderla col parere motivato senza poi seguire le azioni di piano e verificare se queste azioni di piano effettivamente forniscono un contributo agli obiettivi di sostenibilità prima vi avevo fatto porre l'attenzione sull'articolo 3 4 c'è anche l'articolo 5 della legge regionale 14 2008 se ci fate caso già all'epoca era abbastanza avanzata perché vedete qui l'ho evidenziato in verde i piani generali attuativi devono contenere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriale urbane quindi già molti anni fa ma al legislatore erano ben presenti queste necessità le finalità ultime della pianificazione tra l'altro come vedete nella lettera E c'è la riduzione del consumo di suolo quindi uno degli indicatori che noi proporremo come importanti in qualsiasi procedura di vasta cioè il consumo di suolo anche l'occupazione di suolo ad alto valore agricolo ad esempio una delle alternative nei piani e programmi potrebbe essere quella di dovendo effettuare comunque del consumo di suolo valutare in quale ambito, in quale area è preferibile se comunque bisogna fare occupazione di suolo è preferibile ridurre il terreno agricolo che quasi sempre avviene a discorso dei terreni agricoli e ci sono, i terreni agricoli hanno diverse capacità, diverse potenzialità, fertilità quindi una delle alternative, cioè potrebbero essere costruite delle alternative in relazione a diverse localizzazioni per le quali c'è una diversa fertilità effettivamente c'è un maggiore impatto, un minore impatto in funzione della sottrazione di un terreno agricolo più o meno fertile come 3 vedete che c'è, ritorno al discorso del garantire il migliore utilizzo delle risorse naturali che in pratica è quello, è l'esempio che vi ho appena fatto ma anche dei fattori climatici e la prevenzione dei rischi ambientali un'altra norma regionale importante nella valutazione ambientale strategica è la legge 2 del 2013 dove si istituisce la REM, Rete Ecologica delle Marche forse alcuni di voi sono già al corrente o hanno già partecipato a precedenti incontri fatti sempre online nell'ambito di questo lavoro della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile dove vi è stato illustrato il percorso di realizzazione delle reti ecologiche locali questo perché la REM, la Rete Regionale è un disegno di larga scala che comunque necessita di essere declinato a livello territoriale e peraltro è obbligato perché l'articolo 5 dice che la REM è recepita negli strumenti per l'interazione territoriale e urbanistica quindi non è tanto una scelta, un'opzione ma è un obbligo previsto dalla norma in più come dicevo oltre ai seminari e a questa legge c'è la DGR 1288 del 2018 nella quale ci sono tutti gli indirizzi e le specifiche e quant'altro necessario per scendere di scala e capire come attuare la REM a livello locale veniamo alla DGR alle nuove linee guida la DGR 1647 del 2019 si è resa necessaria per chi nel corso degli anni le precedenti linee guida erano del 2010 c'è stata naturalmente un'evoluzione normativa ma anche dei problemi che nel corso dell'applicazione di questa DGR si sono rivelati e quindi occorreva porre rimedio a queste criticità quella principale erano i casi di esclusione che sono stati eliminati e limiti passati nel termine con un screening semplificato questo per evitare di essere sottoposti a procedure di infrazione dopodiché abbiamo dato un documento di indirizzo un decreto del dirigente col quale abbiamo cercato di fornire degli strumenti pratici sia per l'autorità procedente sia per le autorità competenti per gestire al meglio il procedimento di BAS quindi abbiamo stabilito dei criteri degli obiettivi minimi di qualità dei documenti di BAS abbiamo indicato delle modalità di valutazione e di analisi e in particolare col capitolo 10 abbiamo indicato delle modalità molto semplificate per il momento di pesare le diverse alternative in funzione di cosa? degli obiettivi di sostenibilità al momento avevamo e abbiamo tuttora soltanto quelli della strategia nazionale però prossimamente a questo saranno sostituiti gli obiettivi specifici regionali e quindi avremo una definizione molto più particolare di quali sono gli obiettivi e conseguentemente gli indirizzi sia per stabilire le varie alternative da valutare sia per avere uno strumento molto più preciso per i pareri motivati questo è una specifica slide di quello che vi ho appena detto spesso abbiamo rilevato che nel definire le alternative si parla della cosiddetta alternativa zero che in realtà non è un'alternativa ma è semplicemente l'andamento in assenza del piano programma che si sta analizzando questo non può essere perché in realtà alternative parliamo di alternative della proposta di piano e quella selezionata da portare in adozione e poi in approvazione dovrebbe essere quella più vantaggiosa cioè quella che pesando fattori positivi e negativi comunque ci dà il maggior risultato in termini di obiettivi di sostenibilità e questo per concludere sempre nel decreto del documento di indirizzo come vi dicevo prima l'altra criticità oltre a quella delle alternative è il monitoraggio questo è una guida questo schema appunto è nel decreto su come impostare gli indicatori qui ci sarebbe da discutere moltissimo poi dopo questo lo affronterete col professor Laniado che vi illustrerà più in dettaglio tutti questi aspetti che io per il momento vi sto semplicemente accennando e come introduzione se è sufficiente vi lascio e vi auguro una buona giornata allora buongiorno io mi occupo di VAS da moltissimo tempo mi occupavo prima di VIA in realtà mi occupo mi sono sempre occupato del processo decisionale e del modo in cui integrare le questioni ambientali all'interno del processo decisionale io avrei bisogno di una indicazione su come condividere lo schermo chiedo se mi potete indire perché non riesco a trovare non so se sono evitato la condivisione dello schermo non c'è nessuno mi posso aiutare perché la condivisione dello schermo autorizza la scuola di formazione Laura non so se Laura c'è io non riesco io non riesco in questo momento allora cambio la condivisione dello schermo sì ho bisogno della condivisione dello schermo allora ecco dovrebbe essere arrivato un mostraschermo è arrivato un mostraschermo sì adesso arrivo sì adesso vediamo vedete? sì sì va bene io avrei bisogno però di poterlo vedere a schermo intero come dicevo prima sì basta che fa presentazione a schermo intero delle slide sì questo l'ho fatto ma mi compare ancora adesso vedo di solito si fa la presentazione a schermo intero delle slide e poi scompaiono le web account ho capito allora io la presentazione a schermo intero ecco la grazie allora scusatemi scusatemi dell'inconvediente adesso possiamo possiamo partire allora dicevo io mi occupo del processo pubblico processo decisionale in ambito pubblico e in particolare di orientarlo alla sostenibilità cioè dell'integrazione delle questioni ambientali me ne occupo da molto prima che ci fosse la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale e mi piaceva iniziare con una introduzione che ci dà secondo me un pochino il senso di quello che noi facciamo allora vi riassumo un attimo quella che è stata la storia che ci ha portato alla bassa è importante questa cosa perché gli strumenti che vedrete adesso e che descriveremo molto in breve sono strumenti che poi diventano parte integrante anche della bassa della via e della bassa e quindi diciamo c'è una storia che a poco a poco accumula conoscenze le quali poi convergono all'interno diciamo della bassa nell'immediato dopo guerra si è cominciato a applicare negli Stati Uniti l'analisi costi benefici l'analisi costi benefici è stata applicata a tappeto negli anni 50 era iniziata con la valutazione di progetti idrologici e serviva sostanzialmente a decidere tra alternative quale era la migliore e se valesse la pena o meno di realizzare un progetto negli anni 60 ha cominciato a mostrare una serie di difetti e nella prima metà degli anni 60 nasce l'analisi costi efficacia nella seconda metà degli anni 60 nasce e viene applicata l'analisi a molti obiettivi e a molti attributi ecco caratteristica di questi sistemi è sostanzialmente che sono algoritmi di ottimizzazione cioè è una cosa che si fa a tavolino si guarda il progetto o il piano e si va sostanzialmente a decidere in base a soli parametri tecnici ora ad un certo punto è apparso evidente negli anni 70 che questo era insufficiente cioè non si riusciva a seguire un processo decisionale ad affrontare un processo decisionale senza coinvolgere diversi soggetti e senza inserire anche un tasso di soggettività nella decisione che dipendeva appunto dai soggetti coinvolti e dalla distribuzione dei poteri decisionali e così via e allora si passa a delle procedure inizialmente negli Stati Uniti e poi negli anni 80 in Italia nell'85 c'è la direttiva viene introdotta la valutazione di impatto ambientale e poi a seguito dei limiti che ha dimostrato diciamo la valutazione di impatto ambientale questa viene affiancata dalla valutazione ambientale strategica ecco queste due procedure si differenziano fortemente da quelle iniziali proprio perché i sono dal punto di vista tecnico hanno bisogno di sistemi di supporto alla decisione non sono algoritmi di ottimizzazione non si trova l'alternativa ottima dal punto di vista tecnico ma si trova la migliore alternativa possibile tenendo conto di tutti gli interessi e di tutti i soggetti che partecipano diciamo al processo decisionale quindi c'è bisogno di supportare diciamo questa partecipazione allora partiamo dall'analisi costi benefici molto brevemente il mercato fallisce ovviamente non in generale ma fallisce rispetto al fatto di risolvere i problemi ambientali c'è la necessità di un intervento pubblico il mercato non è sufficiente perché sostanzialmente l'ambiente sfugge al mercato pensate semplicemente quando io emetto del fumo io causo un danno un costo sociale ma in realtà non pago per questo danno che costo non compro un pezzo della qualità dell'aria che io sto consumando e lo stesso vale per il paesaggio e così via allora non essendo sul mercato i beni ambientali molti beni ambientali cosa succede? succede che si presentano con prezzo uguale a zero vedete nell'esempio dell'inquinimento atmosferico io emetto del fumo non mi costa niente vuol dire che la qualità dell'aria si presenta con un prezzo uguale a zero in un sistema di mercato e allora capite che il segnale che mi arriva è che quel bene lì è estremamente abbondante e ne posso consumare tutto quello che voglio perché il suo prezzo è addirittura zero e questo fa sì che tutte le risorse ambientali vengano ampiamente sovrasfruttate l'analisi costi benefici per prima tenta di integrare alcuni aspetti ambientali all'interno delle valutazioni che si fanno allora vedremo poi i problemi ma guardiamo un attimo come funziona vedete voi avete se siete un imprenditore voi applicate quella che noi chiamiamo l'analisi costi ricati i flussi di cassa vuol dire che voi andate a prendere il costo di tutti i vostri fattori produttivi poi prendete il ricavo che avete dalla produzione e alla fine cosa fate fate quello che chiamavo l'algoritmo cioè cercate l'alternativa che presenta la differenza massima tra ricavi e costi i ricavi calcolati come prezzo per quantità prodotta e i costi come prezzo dei fattori produttivi ecco questa è l'analisi che fa l'imprenditore privato se voi invece siete lo Stato o la Regione o comunque l'ente pubblico la collettività diceva allora l'analisi costi benefici voi di minimo dentro questo calcolo dovete aggiungere il costo dei residui per esempio delle emissioni nell'aria nell'acqua nel suolo e quindi il costo sociale che hanno queste cose e che l'imprenditore o chi realizza il progetto non ha ecco va inserito nel calcolo quindi vedete che i costi aumentano ma anche i benefici vanno calcolati in modo sociale e non semplicemente privato cosa vuol dire? è che io spesso ottengo un beneficio o avrei una disponibilità a pagare se volete per un servizio o per un prodotto e questa disponibilità a pagare è maggiore di quello che pago io pensate semplicemente a un ponte alle strade che avete sotto casa nella vostra città allora sono strade o ponti che voi percorrete se non li aveste avreste avreste un danno sareste disposti a pagarli a pagare per averli allora quanto sarebbe disposto ognuno di noi a pagare per avere quel ponte o quella strada? ecco ci sono dei metodi per calcolare questa disponibilità a pagare non si tramuta in un flusso di cassa e allora vedete le tecniche di calcolo dell'analisi costi benefici sono diverse da quelle dell'analisi costi ricavi non calcolano il ricavo ma il beneficio indipendentemente dal fatto che io lo paghi o no o ne paghi solo una parte e calcolano soprattutto anche i costi dei residui sentite qual è la conseguenza di questo fatto è la conseguenza che venne fuori in modo evidente quando venne applicata l'analisi costi benefici è che c'è una divaricazione una differenza tra le scelte che fa da un lato lo Stato l'ente pubblico e le scelte che fa il privato cioè molto spesso un privato sceglie evidentemente un'alternativa che è quella che gli massimizza i profitti cioè quella differenza tra ricavi e costi mentre se lo Stato analizza quella stessa alternativa scopre che magari dal punto di vista sociale non va bene perché ha troppi residui troppi inquinamenti troppi esternalità negative si dice e magari queste sono talmente alte che rendono negativa la differenza tra benefici e costi e quindi un progetto che va bene a un imprenditore può non andar bene per l'ente pubblico e viceversa un progetto che l'ente pubblico vorrebbe realizzare e non va bene magari per l'imprenditore perché con i calcoli fatti diciamo dall'ente pubblico con l'analisi di costi benefici magari c'è un beneficio enorme di qualcosa che non si riesce a far pagare più di un tot pensate al trasporto pubblico o pensate all'esempio di prima le strade eccetera eccetera e allora lì l'imprenditore non ha un profitto se dovesse intervenire da solo cosa succede? succede che invece lo Stato vuole che quelle cose vengano realizzate o magari un'impresa produttiva messa in una regione in una località che è poco infrastrutturata e quindi che non ha sufficienti profitti o non ne ha per nulla e lo Stato invece perché ha bisogno di creare occupazione e così via quindi nel suo calcolo mette anche i benefici dovuti all'occupazione evidentemente invece lo vuole allora è successo storicamente che l'analisi costi benefici ha avuto questo conflitto lo Stato con l'analisi costi benefici trovava delle alternative da localizzare e da realizzare che davano un beneficio enorme magari in termini di occupazione e gli imprenditori però non le realizzavano perché non gli davano profitto ovviamente cosa succede che lo Stato a quel punto abbassa i costi per l'imprenditore magari gli dà una serie di benefici in termini di tasse e così via finché il bilancio dell'imprenditore non diventa positivo a quel punto però l'imprenditore realizza il progetto lo realizza soltanto finché ha questo bilancio positivo nel momento in cui i benefici gli incentivi le sovvenzioni finiscono ovviamente l'imprenditore scappa perché da quel momento lì in poi ha un profitto negativo allora capite c'è un grosso problema diciamo di conflittualità tra la decisione pubblica e la decisione che verrebbe presa diciamo in assenza di una valutazione di tipo di tipo pubblico l'analisi costi benefici ha però due grossi limiti uno è il fatto che proprio perché è tutto misurato in moneta chi fa l'analisi costi benefici monetizza tutto quanto ha un obiettivo è un algoritmo quindi lui ha bisogno di calcolare sia i benefici che i costi in termini monetari e allora voi capite che ci sono invece alcune cose che difficilmente si calcolano in termini monetari se io ho un effetto negativo sull'inquinamento per esempio che ha un effetto negativo sulla salute ecco dovrei riuscire a monetizzare i danni alla salute o dovrei riuscire a monetizzare i danni al paesaggio e allora molto spesso questa monetizzazione non si riesce a fare in modo ragionevole e comunque quando si riesce a fare ha un risvolto che è risultato inaccettabile dal punto di vista sociale questo stiamo parlando del dibattito negli Stati Uniti negli anni 60 cosa succedeva pensate di dover per esempio localizzare uno di quelli che allora si chiamavano inceneritori che ovviamente emette della diossina del fumo e quindi causa danni alla salute e così via anche se voi tentate di monetizzare i danni guardate vi succederà un fatto evidente se c'è una zona ricca evidentemente la disponibilità a pagare per evitare questi danni è molto alta quindi il danno risulterà molto alto molto alto in una zona povera invece dove ci sono meno attività magari le persone sono meno ricche hanno minore reddito e così via e si calcolerà un danno che è un danno invece inferiore e allora la localizzazione andrà a finire sempre nelle zone più svantaggiate a priori nelle zone più povere io non ho mai visto un inceneritore realizzato in un quartiere residenziale diciamo di un certo livello ecco capite questa cosa vuol dire che c'è che la salute se volete segue le stesse regole dell'economia se voi usate l'analisi di costi benefici praticamente andate contro all'idea che tutti abbiano lo stesso diritto rispetto alla salute rispetto al paesaggio e così via e questo è uno dei motivi per cui l'analisi di costi benefici viene parzialmente abbandonata e l'altro motivo è che l'analisi di costi benefici non tratta in modo adeguato i conflitti sia i conflitti intragenerazionali cioè all'interno della nostra generazione sia quelli intergenerazionali perché perché nei metodi nell'algoritmo di ottimizzazione nei metodi di ottimizzazione che cosa succede è succede che si perde traccia non si va a valutare i costi e i benefici di ogni singolo soggetto qualcuno può avere dei danni qualcuno può avere invece dei vantaggi da un certo progetto ecco il metodo di procedere dell'analisi dei costi benefici fa sì che si abbia soltanto come informazione il vantaggio sociale il vantaggio complessivo e il danno complessivo e allora capite che se c'è una categoria un gruppo di soggetti un gruppo sociale che ha dei danni e un altro gruppo che ha i benefici pensate per esempio quando andiamo a localizzare qualche cosa io penso per esempio al teleriscaldamento a Milano e andiamo a localizzare una centrale elettrica magari nel Lodigiano e certo guadagniamo tantissimo per l'inquinamento per le emissioni che si fanno in città a Milano però evidentemente andiamo a fare un po' di emissioni a dare un po' di inquinamento alla bassa Lodigiana e capite che quelli hanno solo dei danni allora nel momento in cui io tento di realizzare il progetto e vado a localizzare mi chiederanno ma perché qua come mai e quando gli diremo è per la salute dei milanesi e voi tanto siete un po' più poveri e partite da un livello di inquinamento un po' è inferiore quindi ve lo dovete cuccare è evidente che spesso abbiamo una risposta che è quella di bloccare il progetto ecco molti progetti vengono ostacolati vengono bloccati ma perché l'analisi costi benefici a priori non riesce neanche a conoscerlo quel conflitto se lo trova nel momento in cui va a realizzare il progetto il conflitto viene fuori a posteriori e molto spesso blocca le decisioni allora come dicevo negli anni sessanta cominciano ad essere introdotti altri metodi allora il primo è l'analisi costi efficacia l'analisi costi efficacia ha l'obiettivo di riuscire a risolvere il problema della difficoltà nella valutazione dei costi e dei benefici vi ricordate il fatto che avevamo detto non si riesce o diventa inaccettabile dal punto di vista sociale monetizzare assolutamente tutto allora cosa fa l'analisi costi efficacia semplicemente le cose che non si possono monetizzare rinuncia a monetizzarle le toglie un po' dall'obiettivo noi avremo l'obiettivo che è massimizzare i benefici la differenza tra benefici e costi ma ci metteremo solo gli aspetti tranquillamente monetizzabili quelli che hanno un prezzo sul mercato quelli che si riescono a monetizzare e tutti gli altri tutti i danni che avevamo detto sulla salute e così via tutti i residui e li trasformiamo in vincoli cioè introduciamo per questi dei vincoli diciamo che la qualità dell'aria diciamo l'inquinamento di un certo inquinante non può andare al di sopra di una certa soglia vincoliamo una certa quantità di verde pubblico che ci deve essere introduciamo un vincolo sul rumore nei centri urbani introduciamo tutta una serie di vincoli e questi vincoli praticamente escono dal problema di ottimizzazione qualunque alternativa deve rispettare questi vincoli una volta che li ha rispettati e allora si sceglie l'alternativa che ha la massima differenza tra beneficio e costo appunto tra le alternative che hanno rispettato i vincoli allora questo metodo ha avuto un enorme successo è stato applicato moltissimo appunto a partire dagli anni 60 70 ed è quello che forse voi riconoscete perché è l'approccio vincolistico se volete vincolistico normativo al problema ambientale cioè noi inseriamo tutta una serie di vincoli è anche molto usato per esempio negli appalti pubblici si mettono una serie di vincoli e poi si va sulla qualità su eccetera eccetera e poi si va a cercare l'offerta migliore quella che costa meno diciamo avendo rispettato i vincoli anche qui però sono nati una serie di problemi ecco guardate scusate mi fermo un attimo per dire capite allora che tutte le tecniche dell'analisi costi benefici quelle per tutto ciò che è monetizzabile restano in piedi e verranno poi ereditate dalla via e dalla vassa e voi capite che anche tutti i vincoli quando sono ragionevoli quando hanno senso verranno ereditati e ci saranno comunque una serie di vincoli sul territorio eccetera però perché non basta questo approccio perché non basta l'approccio vincolistico e guardate ci sono alcuni problemi il primo è chi fissa i vincoli e come li fissa allora guardate di solito ci sono delle commissioni che fissano i vincoli e tutti noi sappiamo che i vincoli vengono fissati in parte in base a considerazioni veramente di danni alla salute al benessere e così via che spesso però non si sa esattamente dove andare a porre il vincolo non si conosce esattamente il tipo di danno quando insorge cioè è una cosa soggettiva in qualche modo e allora molto spesso l'altra cosa che viene tenuta in considerazione nel fissare il vincolo sono anche i costi cioè quanto costa poi alla società fare rispettare questo vincolo ci riesce o no questi vincoli sono in realtà un compromesso tra difesa della salute diciamo così del benessere e invece necessità di tipo economico quindi già vedete il modello viene contaminato non è vero che è separato l'ambiente che viene vincolato in realtà è difficile fissare i vincoli e il problema è la credibilità di chi li fissa come li fissa molto spesso sono molto larghi sono molto laschi perché ovviamente più si va a fondo nei vincoli ma pensate anche a tutto il dibattito che si sta facendo adesso sul covid più si va avanti quei vincoli e più la cosa costa diciamo per la società e poi c'è un altro problema scusate questo ovviamente mina un po' con la credibilità dei vincoli poi c'è un altro tipo di problema ed è che tipo di vincoli vanno introdotti e hanno senso perché capite esistono dei vincoli che si fanno rispettare facilmente io posso mettere dei vincoli sulle azioni sulle pressioni se io metto un vincolo sulle emissioni dico non ci possono essere più emissioni di tot da un certo impianto o in una certa città in un certo quartiere allora io posso anche tentare di farlo rispettare perché andrò a cercare quello che emette di più del consentito e gli darò una multa lo metterò in galera non so farò quello che devo fare farò smettere quel comportamento la gente va in macchina e io posso vietare certi tipi di motori perché inquinano troppo e così via ma badate il problema è che facendo così io non ho nessuna garanzia su quello che è il risultato sull'ambiente perché l'ambiente non vede le emissioni vede il risultato dell'insieme delle emissioni il cumulo dei comportamenti diffusi individuali e quindi alla fine voi avete potete avere un livello di inquinamento atmosferico che è molto alto perché magari avete molte imprese che emettono o molte automobili che emettono in un contesto magari territoriale particolarmente sensibile e allora capite questo tipo di vincolo mettere un vincolo direttamente sulle condizioni ambientali sul territorio ha però un difetto se io metto il vincolo sul territorio io poi nel momento in cui l'inquinamento supera le soglie che mi sono dato i vincoli che mi sono dato e a quel punto non riesco a trovare il colpevole perché l'inquinamento è il risultato di tanti comportamenti diffusi da chi vado a dire sei tu certo dal sindaco probabilmente se è un comune però capite che il problema diventa un problema politico e non è più un problema tecnico e non a caso nonostante tutti i vincoli di questo tipo che abbiamo nelle nostre città questi vincoli sono allegramente superati noi siamo in procedura di infrazione con l'Unione Europea perché l'inquinamento nella pianura padana è uno dei più alti è il più alto d'Europa e la la commissione europea sostiene che non abbiamo fatto ciò che dovevamo fare per evitarlo ma quando io ho lavorato alla VAS del piano per l'inquinamento di risanamento dall'inquinamento atmosferico della regione Lombardia mi ricordo che avevamo fatto i calcoli e avevamo scoperto che per riuscire a rientrare nei vincoli noi dovevamo diminuire del 70% almeno tutte le attività della regione Lombardia cioè praticamente abbattere completamente l'economia della regione allora io ovviamente mi occupavo di vasti aspetti ambientali e ho fatto presente che bisognava fare bisognava fare delle cose eccetera eccetera il governo diciamo della regione ha detenuto che invece questo fosse troppo costoso e ovviamente poi non ha preso tutta una serie di misure magari anche intermedie ne ha prese di troppo deboli col risultato che appunto in Lombardia si muore moltissimo anche se questo non viene molto detto insomma di inquinamento atmosferico allora c'è un'ultima considerazione sull'analisi di costi efficacia su questo sistema vincolistico e porta comunque a una strategia che in termini tecnici noi chiamiamo subottima perché subottima vi faccio un esempio supponete di avere due piani alternativi per il risanamento dell'aria in un certo quartiere un piano è di tipo tradizionale quindi va a prendere tutte le misure possibili finché arriva ai limiti del vincolo quindi riporta riporta la situazione alla normalità alla legalità rispettiamo i vincoli ovviamente spendendo il meno possibile quindi arrivando con le sue misure ai limiti del vincolo e supponiamo che questo piano costi 10 e poi avete un altro piano invece e supponete che qualcuno abbia avuto un'idea geniale e quel piano invece risolve alla radice il problema dell'inquinamento atmosfere quindi voi avete un'aria completamente pulita non al limite del vincolo e capite che siccome il vincolo era deciso in modo largo comunque c'è una polemica fa comunque male alla salute eccetera eccetera capite che avere un risultato che invece risolve il problema dell'inquinamento e supponiamo che questo risultato costi questo secondo piano costi 11 invece di 10 allora è evidente che chiunque di voi dovesse scegliere sceglierebbe quello che costa 11 e risolve il problema alla radice e non abbiamo più malattie eccetera eccetera se voi però applicate in modo introducete per legge il sistema dei vincoli come negli apparti cioè avete i vincoli e poi dovete decidere in base solo agli aspetti economici monetizzabili e voi a quel punto avete le mani legate e dovete necessariamente decidere per il primo perché entrambi i piani rispettano i vincoli e dovete decidere per quello che costa meno e allora capite questo è fortemente insoddisfacente come si dice si dice che la variabile ambientale è stata trattata in modo diverso da quella economica quella economica è prioritaria perché varia con continuità quella ambientale resta invece soltanto un vincolo o superi o non superi una certa soglie e allora capite non è una variabile trattata dal punto di vista decisionale allo stesso livello dell'altro e questo crea diciamo questi paradossi allora anche questo metodo dei vincoli diciamo della ricoste efficacia viene parzialmente abbandonato non vengono abbandonato i vincoli ovviamente perché quelli garantiscono il minimo ma poi ci si lascia la possibilità di decidere tra alternative che pure rispettano i vincoli ma sulla base non solo di criteri economici anche di criteri ambientali sociali e così via allora il terzo strumento che viene inserito e viene elaborato si comincia ad elaborarlo nella seconda metà degli anni sessanta con una serie di sperimentazione fatte da diverse università è la cosiddetta analisi a molti obiettivi l'analisi a molti obiettivi si differenzia dalle altre due perché introduce esplicitamente la dimensione politica della decisione la dimensione soggettiva della decisione perché prende atto del fatto che non si possono misurare non si possono monetizzare alcuni degli obiettivi ma non si può neanche ridurle soltanto a vincolo allora cosa fa l'analisi a molti obiettivi ve lo faccio vedere in un esempio molto didattico molto semplice poi magari la riprenderemo quando parliamo di massi l'analisi a molti obiettivi supponiamo di avere due obiettivi è il piano di cui vi parlavo di risanamento dal punto di vista dell'inquinamento di un di un quartiere immaginiamoci siano due obiettivi uno è l'inquinamento che vogliamo minimizzare e l'altro è il costo che vogliamo minimizzare quindi tutte e due da minimizzare vuol dire che se noi fossimo di questo diagramma che vedete se noi fossimo nell'origine del piano saremmo felici zero inquinamento e zero costo ovviamente non è possibile e quelli che sono segnati sono i progetti alternativi o i piani alternativi che esistono allora la prima cosa che si vede è che una serie di questi piani si possono eliminare dalla analisi perché prendete per esempio il piano B il piano B si dice che è sicuramente dominato dal piano A perché vedete che il piano A costa meno e inquina meno sta più a sinistra e più in basso questo vale per il progetto D e C che sono dominati dal piano E e così via quindi praticamente gli unici gli unici che restano sul tappeto sono quelli che ho cerchiato di rosso tutti gli altri in una prima fase dell'analisi vengono eliminati perché non sono efficienti quelli che restano sono i progetti che si chiamano così efficienti dal punto di vista di pareto che caratteristica hanno? che non si può passare da un progetto all'altro di quelli cerchiati migliorando l'inquinamento quindi andando verso sinistra senza necessariamente peggiorare il costo vedete c'è un conflitto evidente tra gli obiettivi e allora come si risolve il problema decisionale? guarda l'idea l'idea da cui si parte è quella di dire io posso chiedere alle persone ai decisori politici e così via per esempio partendo dal piano I e guardando il piano F gli chiedo ma tu per decidere F invece di I vediamo cosa sei disposto a rinunciare cioè per avere meno inquinamento ed è esattamente la quantità che vedete la differenza in orizzontale sei disposto a pagare quel costo in più oppure no? e questa è la domanda che viene posta perché se la risposta è sì sono disposto allora passate alla domanda successiva ed A F sei disposto a pagare quel costo in più per avere quell'inquinamento in meno e andare in E se sì e così via e a un certo punto vi fermate e dite questa è la decisione la decisione è stata presa in modo soggettivo dal decisore o da qualcun altro però badate è stata resa trasparente cioè è trasparente la scelta che fa il decisore perché si sa esattamente qual era il conflitto tra gli obiettivi e si sa esattamente che cosa ha scelto che cosa è stato disposto a pagare che cosa no quindi si diceva il grande vantaggio dell'Asia a molti obiettivi è di prendersi in carico la soggettività della decisione perché è comunque soggettiva e poi però di andare a rendere trasparente di aiutare chi deve decidere a capire cosa sta decidendo e sono le domande che vi ho mostrato e contemporaneamente di rendere trasparente la decisione che viene presa in modo che chiunque sappia giudicare questa decisione allora questo è un po' lo schema quando è nata l'analisi a molti obiettivi perché l'analisi a molti obiettivi non scusate non so perché ecco perché l'analisi a molti obiettivi in questa forma non può essere applicata è stata applicata inizialmente su grandi progetti dove gli obiettivi erano molto pochi erano appunto due o tre e allora un'analisi di questo tipo si può fare non so era la diga e dall'altra parte c'era il rischio di risondazione no ma se voi invece avete ormai sviluppato una sensibilità all'ambiente avete capito che gli obiettivi non monetizzabili sono tanti non soltanto l'inquinamento atmosferico ma c'è anche su un piano su un progetto grosso o su un piano ci sono anche evidentemente l'inquinamento idrico ci sono evidentemente il paesaggio ma ci sono gli aspetti sociali c'è la biodiversità e così via ecco se voi dovete aumentare gli obiettivi andate oltre i tre una figurina di questo tipo non la potete più fare e dovete costruire delle grandi matrici delle matrici dove avete tanti obiettivi se volete nelle righe tanti progetti sulle colonne e non ci capite più niente cioè in particolare non ci capisce più niente chi deve decidere perché non ci sono più queste domande così semplici e questa visualizzazione così semplice e allora poi l'analgia ai molti obiettivi ha avuto delle evoluzioni che si applicano invece adesso ai piani e che vi farò vedere poi quando passeremo appunto al percorso metodologico della base sentite tutti e tre questi metodi hanno però un un grosso difetto una grossa criticità sono metodi metodi matematici algoritmi come dicevo c'è bisogno invece ci si rende conto che per la trasparenza per trattare la soggettività c'è bisogno di altro allora nasce la valutazione di impatto ambientale siamo nel 70 negli Stati Uniti la valutazione di impatto ambientale ha un'impostazione di tipo preventivo ovviamente alcuni chiamano ogni tanto valutazione di impatto ambientale delle valutazioni fatte a posteriori ma dovrebbero usare un altro nome quella di cui parliamo noi è quella che serve per decidere che si fa prima e che ragionamento si faceva si faceva questo ragionamento se abbiamo la necessità di generare delle alternative e c'è una presenza di progetti alternativi quindi c'è un conflitto ovviamente c'è una presenza quindi di interessi diversi e di alternative c'è dall'altra parte una presenza di obiettivi conflittuali nelle alternative stesse gli obiettivi che noi ci diamo sono conflittuali noi non possiamo nei nostri obiettivi noi diciamo di solito vogliamo massimizzare il beneficio economico vogliamo minimizzare i rischi vogliamo eccetera eccetera alcuni di questi obiettivi sono chiaramente conflittuali e soprattutto c'è una soggettività nella valutazione come abbiamo detto perché alcuni di questi obiettivi non sono facilmente monetizzabili e allora si diceva è necessario prevedere un processo di partecipazione al processo decisionale partecipazione a diversi livelli che riguarda i cittadini ma riguarda anche il fatto che una decisione ai giorni nostri è complessa e intercetta coinvolge un numero di attori di decisori se volete che è notevole cioè ognuno è competente per la sua quota di decisione ed è l'insieme di questi decisori che deve arrivare alla fine a una decisione condivisa e allora vedete c'è una necessità di integrazione tra aspetti tecnici e aspetti procedurali cioè è necessaria una procedura perché la procedura è il luogo dove tutti i soggetti coinvolti possono intervenire con il loro ruolo nel momento in cui devono intervenire e dicendo le cose che devono dire quindi ognuno ha un suo spazio all'interno della procedura ben definito sentite nascono una serie di problematiche io vedete che queste sono problematiche guardate questa questa slide dopo magari facciamo un attimo di pausa questa slide sulla via io l'ho ricopiata da allora non c'erano le slide da una cosa invece scritta a mano cioè scritta senza powerpoint nel 1987 perché erano le problematiche che discutevano all'interno della commissione che doveva introdurre doveva eccepire il decreto la direttiva scusate nel decreto ministeriale e io avevo presentato questa questa slide che metteva in evidenza dal mio punto di vista quello mio tecnico diciamo di esperto del processo decisionale metteva in evidenza tutta una serie di criticità ve le lascio per documentazione ma le domande ma vorrei soffermarmi soltanto su tre di queste problematiche perché sono quelle che riguardano di più il significato poi della BAS perché è stata introdotta la BAS allora la prima è la fase di progettazione in cui si colloca la via voi sapete che la valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata in un momento della progettazione cioè si prende il progetto la proposta di progetto e la si valuta quindi che cosa succede siccome la progettazione è un processo lungo che ha diverse tappe allora evidentemente bisogna decidere in che momento inserire la valutazione di impatto ambientale vedete se la inserite nel momento dello studio di fattibilità o del progetto preliminare avete la possibilità di considerare delle alternative strategiche delle alternative radicali per esempio fare una ferrovia invece di un'autostrada oppure intervenire sulla localizzazione dei posti di lavoro e delle residenze per abbattere della domanda e evitare di fare qualunque cosa se più andate avanti nella progettazione arrivate nel progetto definitivo una volta si chiamava di massima e allora lì avete già deciso che cosa fare ovviamente avete delle alternative che sono di tipo tecnologico o di localizzazione se andate ancora avanti cioè avete deciso la localizzazione della tecnologia eccetera allora andate al progetto esecutivo avete ovviamente nel momento in cui realizzate il progetto esecutivo in cui studiate il progetto esecutivo e avete trovato degli altri ostacoli degli altri problemi e avete bisogno di introdurre magari delle varianti delle misure di mitigazione ma ovviamente non potete più a livello di progetto esecutivo introdurre delle alternative strategiche dire abbiamo scherzato sono tre anni che progettiamo questa cosa ma ne volevamo un'altra e allora capite il problema di dover però scegliere una fase in cui inserire la via è un problema drammatico perché se come molti auspicavano allora la inserite a livello del progetto preliminare dello studio di fattibilità voi avete la possibilità di inserire delle alternative significative però non sapete niente del progetto sapete troppo poco e quindi non riuscite a fare una valutazione di impatto ambientale significativa non riuscite a cogliere tutti i problemi che possono sorgere e poi questi problemi sorgeranno quando fate il progetto definitivo il progetto esecutivo ma voi ormai avete dato il via libera e viceversa se lo fate a livello di progetto esecutivo è certo che qui riuscite a fare lo studio di impatto ambientale perché sapete tutti i particolari e però non potete più tenere conto di alternative significative sembra quasi una presa in giro io faccio tutta la valutazione di impatto ambientale ma soltanto per decidere di mettere un filtro in più non posso decidere altro la scelta del decreto è stata quella di andare nel progetto definitivo poi sapete che questa scelta è stata rimessa in discussione più volte ma con altri scopi diciamo non certo per valutare le alternative radicali a un certo punto si era introdotto all'idea di passare davvero al preliminare ma l'idea era di far passare tutta una serie di opere rapidamente senza troppi ostacoli da parte della mia allora teniamo presente questa cosa perché il problema che nasce qui è che si sarebbe dovuto ma allora non si poteva non si aveva la capacità di farla la cultura per farlo non c'erano gli strumenti si sarebbe dovuto fare una valutazione di impatto ambientale ovviamente pensate quanto avrebbe appesantito in ognuna delle fasi della progettazione per essere coerenti questo si discusse nell'ambito della commissione ma ovviamente venne venne scartato come non fattibile seconda criticità che avevo messo in luce è l'organizzazione della partecipazione ecco nella valutazione di impatto ambientale di allora dell'88 ma che poi è andata avanti per decenni per anni diciamo la consultazione era soltanto una consultazione di tipo passivo cioè una volta fatto lo studio di impatto ambientale e questo studio veniva messo a disposizione del pubblico voi dite come veniva messo a disposizione e veniva pubblicato un annuncio su due quotidiani che diceva se volete potete venire a consultare lo studio io non voglio perdere tempo quindi non vi racconto tutta l'aneddotica che c'è su questa cosa ma vi immaginate chi riesce a trovare l'annuncio sul giornale deve essere così fortunato da leggere proprio quel giornale su cui c'è l'annuncio l'annuncio in mezzo agli annunci economici e poi tutta una fase durata diversi anni in cui uno poi andava in regione per tentare di guardare la documentazione e quelli dicevano ma non so con chi vuoi parlare dove vuoi andare e non si riusciva assolutamente e poi questa documentazione era spesso di 12 volumi e chiunque è andato lì magari gli dicevano non puoi fare le fotocoppie e sveniva davanti a questa massa di roba quindi pochissime osservazioni spesso osservazioni che riportavano dentro il conflitto in modo integrale cioè senza nessuna mediazione e quindi molto spesso sulle grandi opere sulle opere della via il conflitto andava nelle piazze si si facevano i comitati si organizzava la lotta contro un certo progetto e quindi vedete l'idea della scelta tra alternative di tentare di capire come muoversi eccetera andava completamente disattesa e quindi abbiamo bisogno di un concetto di partecipazione diverso e poi l'ultimo l'ultima criticità che vorrei mettere in luce è il rapporto tra la via e la pianificazione territoriale allora l'approccio della via è però per le singole ed è un po' l'approccio dell'economia storica per esempio l'analisi costi benefici ed è l'approccio degli ingegneri l'approccio invece della pianificazione territoriale per aree è quello degli urbanisti ma anche di quelli che si occupano di agricoltura di fenomeni ambientali diffusi diciamo sul territorio e c'è una contrapposizione ideale diciamo culturale da sempre tra queste due scuole l'analisi costi benefici l'analisi costi efficacia all'inizio anche l'analisi a molti obiettivi si approcciavano per aree singole e quindi la valutazione di impatto ambientale anche si approccia per opere singole però non riesce a svolgere il suo ruolo a pieno perché non ci riesce intanto perché per decidere un'opera un progetto bisogna conoscere non la fotografia della situazione attuale ma lo scenario di riferimento cioè verso dove si sta andando pensate se voi progettate una strada quella strada ci mettete dieci anni a costruirla sarà in esercizio fra dieci anni e quindi sarà inserita nell'ambiente di tra dieci anni non in quello di adesso e allora voi avete bisogno di conoscere di sapere quale sarà l'evoluzione del territorio presumibilmente eh ma l'evoluzione del territorio lo scenario di riferimento ve lo dà soltanto l'insieme dei piani è un piano che insiste su quel territorio che dice da qui ai prossimi dieci anni l'evoluzione di questo territorio vogliamo che sia così così perciò facciamo questo e questo e allora capite la valutazione di un'opera ha bisogno dello scenario di riferimento dato da un piano ma poi se voi andate a progettare un'opera appunto significativa beh non basta l'opera c'è bisogno dell'inserimento dell'opera nel territorio cioè se io faccio di nuovo un'autostrada io avrò bisogno di avere un piano paesistico probabilmente intorno nell'intorno della strada per inserirla correttamente ma dovrò avere bisogno anche di governare gli effetti indotti perché pensate perché noi sappiamo quali sono gli effetti di una strada il consumo del suolo e il traffico che poi l'impermeabilizzazione il traffico con tutte le conseguenze emissioni rischi rischi di congestione eccetera ma non è certo questo il problema più grosso dell'autostrada molto spesso è un altro che dove c'è lo svincolo si andranno a localizzare in maniera selvaggia tutta una serie di insediamenti molto spesso superando tutti i limiti diciamo dei piani regolatori e così via o con delle varianti o in modo abusivo e intorno a quella strada ci sarà una selva di cartelloni pubblicitari eccetera ci saranno tutta una serie di attività che si insedieranno anche intorno alla strada eccetera eccetera quindi voi se dovete se avete un progetto importante sul territorio avete bisogno non soltanto dello scenario di riferimento ma anche di un piano che governi l'indotto che governi tutto quello che succede nel territorio intorno alla vostra opera e questo non può essere nelle mani del proponente dell'opera è necessariamente nelle mani di un piano e poi come fate a valutare voi che state costruendo l'autostrada gli effetti sinergici accumulati sul territorio perché oltre alla vostra strada c'è magari un impianto di sbattimento dei rifiuti c'è magari un'impresa che si sta localizzando c'è un ampliamento di un quartiere residenziale allora l'effetto sul territorio è dato dal cumulo di tutti questi interventi e ovviamente anche questo l'effetto cumulativo o sinergico tra diverse opere può essere preso in carico solo da un piano allora capite c'è se volete una prevalenza io scusate non sono credo di non essere sospetto di preferenze perché io sono di origine sono un ingegnere che poi si è occupato sempre di economia quindi il mio approccio originale e culturale è quello operare però ammetto una supremazia dell'approccio operare perché senza l'approccio operare l'approccio per opere non ha senso non può essere realizzato in modo significativo e allora io proporrei di fermarci qui per un intervallo per una pausa di pochi minuti se siete d'accordo chiedo sì facciamo allora una pausa di cinque minuti facciamo una pausa di cinque minuti va bene se avete domande intanto potete scriverle o alzare la mano poi le leggiamo di cinque minuti di cinque minuti Dunque, io avrei bisogno di parlare un attimo con Fulvio o con Patrizia. Mi provate a chiamare magari? Volete che durante la faccia vi chiudo i microfoni? Grazie a tutti. 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 importante l'andare a vedere, ma ripeto c'è poi, allora ne approfitto per dire come siamo organizzati come slide anche. Noi adesso abbiamo visto dal mio punto di vista la genesi storica, se volete, della VAS, da dove emerge che eredità si porta dietro e come tutte le critiche fatte ai metodi precedenti convergano appunto nella VAS. Adesso in questa seconda parte io vorrei introdurre proprio la VAS, introdurre dal punto di vista generale, degli elementi generali, diciamo, la VAS e anche una serie di critiche che ci sono già alla VAS, per cui sono in atto anche dei cambiamenti. E poi invece, dopo questa seconda parte, inizieremo alla fine della giornata di oggi e tutta quella di domani, andremo a prendere in considerazione proprio il percorso della VAS e quindi come si svolge dal punto di realizzazione del rapporto ambientale, i diversi passi dal punto di vista procedurale e quindi andremo proprio ad analizzarla nel suo percorso metodologico. Allora, l'introduzione della VAS avviene anche storicamente in una fase di cambiamento proprio di paradigma, di paradigma a livello sociale, decisionale, a livello politico. Cioè, si passa, è la fase in cui si sta passando dai sistemi gerarchici ai sistemi a rete, che sono quelli, ai sistemi più complessi a rete, che sono quelli di oggi. Allora, la via nasce dentro al paradigma dei sistemi gerarchici. la VAS, dentro al paradigma dei sistemi a rete, mentre stanno iniziando, se volete, i sistemi a rete. Allora, vediamo brevemente le differenze. Allora, il sistema gerarchico, il sistema gerarchico vuol dire che è a piramide, c'è uno che comanda e poi gli altri via via che obbediscono. Allora, la via è di questa generazione, se volete, e quindi risponde all'idea del governo come comanda e controlla. Quindi, c'è uno che governa, c'è il governo, e magari sono dieci persone, però governa tutti gli altri attraverso il sistema del comando e controllo. Cioè, decide lui, praticamente, e gli altri devono ubbidire e lui controlla. E viene dentro il sistema a rete, invece, è un sistema, e la traduzione italiana non è facile, perché anche in italiano è ancora governo, ma è la governance. Cioè, guardate, è molto importante, perché il fatto, se volete diamo una definizione, è il fatto che ognuno sia messo in grado di svolgere responsabilmente il proprio ruolo. E ovviamente lo svolga. Quindi, le responsabilità all'interno della società sono suddivise. Ognuno ha le sue responsabilità, deve svolgere il suo ruolo, ma soprattutto deve essere messo in grado di svolgerlo. Allora, nel sistema gerarchico c'è un obiettivo, e quindi la riduzione della complessità, pensate, il PIL, l'aumento, il profitto, ma anche la differenza tra benefici e costi. Nel sistema a rete ci sono molti obiettivi, c'è un'esplorazione della complessità, se volete, molti obiettivi. Nel sistema gerarchico c'è un decisore, e qui abbiamo molti attori con competenze diverse. Nel sistema gerarchico l'informazione è centralizzata, perché serve semplicemente a chi decide. Nel sistema a rete l'informazione è necessariamente condivisa, perché devono accedervi molti attori. Nel sistema gerarchico la consultazione è la consultazione di un documento, semplicemente. Cioè, uno, nel sistema gerarchico, uno può dire io mi consulto e quindi prendo il documento che ho prodotto, la decisione che ho prodotto, la sottopongo a consultazione, e poi deciderò se tener conto o meno, o come tener conto, diciamo, di questa consultazione. Ma è una consultazione passiva, che viene a posteriori. E invece, nella sistema a rete, la partecipazione deve essere una partecipazione attiva. Siccome ci sono molti attori, molti obiettivi, molti interessi che si confrontano, è la partecipazione deve essere attiva e poter portare le proprie istanze e partecipare alla formazione della decisione. E poi, da ultimo, come dicevo, gli algoritmi per il sistema gerarchico e i sistemi di supporto alla decisione per il sistema a rete. Allora, vedete, la via sta nella colonna di sinistra, Sistemi Gerarchici. La VAS comincia ad avvicinarsi alla colonna di destra. Cos'è il sistema di supporto alle decisioni? E il sistema di supporto alle decisioni è tutto ciò che permette di generare e fornire informazioni a chi partecipa e a chi deve decidere e a rendere trasparente la decisione. Quindi, tutto ciò che ha a che fare col fornire tutte le informazioni che servono per chi decide o per chi partecipa e a posteriore, invece, per rendere trasparente la decisione che è stata presa, è compito del sistema di supporto alle decisioni. quindi le sue parole chiave sono in realtà trasparenza, ripercorribilità e partecipazione. Qual è il ruolo della VAS? Allora, orienta il piano, come è stato definito inizialmente, orienta il piano della sostenibilità ambientale alla sostenibilità ambientale lungo l'intero percorso di elaborazione e attuazione. Allora, guardate, questa è una prima grossa differenza rispetto a quanto abbiamo visto prima. Cioè, la VAS è attiva lungo tutto il percorso di elaborazione e attuazione, poi vedremo cosa vuol dire, ma in prima istanza vuol dire che è un processo. Cioè, la VAS si svolge con un processo, non è la valutazione a posteriore di un documento. Cioè, non è che viene fatto il rapporto ambientale e la VAS valuta il rapporto ambientale e quindi valuta il piano. Quella sarebbe la logica della via. La logica della VAS invece è quella di interagire col piano lungo tutto il percorso di elaborazione e anche di attuazione per orientarlo alla sostenibilità, per inserire le esigenze, diciamo, dell'ambiente. Quindi ha un rapporto dialettico con chi elabora il piano e con chi lo attua. Deve contemplare la partecipazione di diversi soggetti, poi entreremo nel merito, deve portare dentro proposte di obiettivi, di azioni alternative, di criteri ambientali. Attenzione, perché molto spesso la VAS è stata considerata soltanto come difensiva. Cioè, la VAS va a vedere cosa fa il piano e tenta di mitigare gli effetti. Quindi tenta di dire sì, ma qui pianta due alberi, qui fai così, eccetera. Cioè, tenta in qualche modo di prendere il piano così com'è o come viene proposto anche in fase di elaborazione e di difendersi dagli effetti negativi del piano. Ecco, in realtà è un'interpretazione sbagliata perché la VAS deve entrare nell'elaborazione del piano portando dentro i propri contenuti, quindi anche i propri obiettivi, le proprie azioni, le alternative, i criteri, eccetera. poi chiaramente la VAS è la valutazione da valut alla luce dell'ambiente ma non solo, valuta le azioni alternative che sono considerate nel piano e valuta l'intero piano dal punto di vista ambientale e poi segue ovviamente l'attuazione e il monitoraggio. Quindi vedete che è molto più complessa diciamo come procedura della via. Ha diverse fasi quindi una fase preliminare in cui ci sono proposte suggerimenti attraverso il coinvolgimento di un particolare tipo di soggetti anche questo lo vedremo tra un attimo i soggetti con competenza ambientale. Ha la elaborazione di un rapporto ambientale attenzione che cos'è il rapporto ambientale? Non è la valutazione del piano nel senso di dire va bene non va bene la pagella che si dà a posteriore. se volete da un certo punto di vista è la valutazione dell'attività che la VAS ha svolto nel piano. Quindi quanto è riuscita a orientarlo alla sostenibilità e quanto invece rimane di critico. Quindi la VAS il rapporto ambientale racconta un po' il percorso che è stato fatto e mette in luce i contributi della VAS al piano e poi mette in luce le criticità ovviamente che sono restate e che bisogna capire se accettare oppure no. E qui subentra il parere motivato e il parere motivato sulla base del rapporto ambientale e sulla base ovviamente della consultazione che l'autorità competente fa ma anche questo entreremo nel merito che tardi fa con i soggetti di competenza ambientale il parere motivato è una richiesta che l'autorità competente per la VAS è un documento ovviamente ma che contiene la richiesta di modifiche o integrazioni c'è una fase ovviamente in cui queste richieste vengono elaborate accettate c'è una dialettica di nuovo e poi c'è finalmente una dichiarazione di sintesi nella quale si documenta come sono state accolte le richieste fatte e soprattutto nella dichiarazione di sintesi che è quella che accompagna l'approvazione diciamo del piano si si mettono le basi diciamo per il monitoraggio che dovrà essere eseguito secondo le indicazioni date nel parere motivato e alla fine durante la fase di attuazione ci sono le relazioni di monitoraggio quindi la BAS segue tutto questo percorso vedete che in alcuni momenti pubblica dei documenti ma sono documenti ai quali ha contribuito nei quali ha contribuito diciamo all'elaborazione qual è l'ambito di applicazione della BAS io qui metto soltanto un paio di punti che mi sembrano importanti per poi andare a discutere della BAS allora intanto l'ambito di applicazione è stato molto discusso la direttiva dava una lista positiva che sono i piani per cui è obbligatoria comunque la BAS senza discussione una lista negativa i piani per i quali non non si deve fare non sa da fare e poi evidentemente una serie di piani che non sono compresi in queste due liste quindi qualunque piano non sia compreso in queste due liste e abbia certe caratteristiche deve andare a verifica di associabilità quello che è chiamato screening allora qui vedete la lista positiva quindi agricoltura foreste molti si stupiscono a volte perché dicono ma come devo fare la valutazione ambientale di un piano che riguarda una questione ambientale ma certo pensate nella gestione delle foreste piuttosto nella gestione dei rifiuti o delle acque quante alternative avete e quante scelte negative con effetti negativi potete fare e quindi magari su altri settori magari siete sostenibili sul vostro ma avete delle ricadute su altri settori quindi tutti i piani diciamo che riguardano questi settori che sono obbligatori quindi previsti dalle norme che riguardano questi settori e che fanno da quadro di riferimento per delle valutazioni delle valutazioni di impatto ambientale cioè che riguardano un territorio all'interno del quale è un settore all'interno del quale possono esserci dei progetti che sono sottoponibili a via ecco tutti questi piani sono sottoposti a VAS obbligatoriamente ecco un secondo punto è tutti quelli che possono avere effetti su rete natura 2000 l'unica possibilità di esclusione è soltanto per in caso di piccolissime aree piccole aree a livello locale e per modifiche minori di piani e di programmi quindi non un piano nella sua interezza ma evidentemente una variante che però non abbia effetti sull'ambiente non abbia potere decisionale se volete non abbia la possibilità di impattare sull'ambiente questa è una delle cose più discusse ovviamente e poi c'è una lista negativa anche la lista negativa è molto problematica perché per esempio esclude tutti i piani e i programmi finanziari e di bilancio ma vedete in molti altri stati un piano finanziario non decide nulla alloca semplicemente le finanze cioè decide come ripartire le risorse ma su una lista di progetti che è già contenuta in altri piani quindi non ha potere decisionale da noi invece la finanziaria i nostri piani o programmi finanziari sono quelli che decidono perché nel momento in cui allocano le risorse è quel piano quel progetto deve andare a finire nei piani eccetera e allora capite che anche qui ci sono dei grossi problemi ma vado avanti la questione dello screening la riprenderemo dopo della verifica di assorgettabilità e vi mostro rapidamente una procedura di di valutazione mentale strategica allora prima c'è appunto lo screening ci si chiede se il progetto il piano è soggetto a VAS se è sì si va direttamente a fare la VAS se è no si fa la verifica di assorgettabilità se sì allora si va a fare la fase preliminare si chiama anche scoping che produce il documento preliminare poi c'è tutta la fase di integrazione nell'ambiente nel piano e poi c'è la che arriva alla proposta di rapporto ambientale c'è la consultazione e ci si deve porre il problema delle necessità di modifiche a seguito diciamo della consultazione c'è una revisione della proposta di rapporto ambientale e si entra nella fase ovviamente di adozione abbiamo detto prima con il parere motivato eccetera e poi c'è spesso per i piani per i nostri piani comunali regolatori c'è un doppio livello l'adozione è separata dall'approvazione non sempre anzi quasi mai in Europa succede questo e quindi abbiamo questo doppio livello abbiamo spesso una seconda fase di consultazione di osservazione e di consultazione e poi l'approvazione definitiva che richiede quindi un aggiornamento anche del parere motivato almeno della dichiarazione di sintesi allora la verifica di assoggettabilità il primo di questi elementi è molto critico perché uno degli sport preferiti lo vedremo adesso in Italia è quello di dribblare la VAS cioè di riuscire a fare in modo che i propri piani non siano assoggettati a VAS anche qui avrei una serie infinita di aneddoti ve ne cito magari uno solo nell'ambito della programmazione comunitaria in Lombardia ci sono dei piani dei piani integrati a tutti gli effetti cioè sono dei piani presentati da gruppi di comuni nei bandi dei gruppi di comuni che riguardano il territorio nei loro comuni e riguardano tutta una serie di azioni da svolgere all'interno del comune questo piano deve essere approvato perché poi i progetti le opere contenute nel piano possano partecipare ai bandi allora questi piani hanno dei potenziali effetti sull'ambiente certamente sono un piano sovracomunale a tutti gli effetti con tutta una serie di azioni eccetera sapete cosa è stato fatto? li hanno chiamati progetti si chiamano progetti integrati e poi hanno detto siccome sono progetti non vanno a massa allora questo io in quasi tutte le regioni ho scoperto cose di questo tipo non in questa forma ma tentativi di illusione in realtà no della massa quindi questo della verifica di assoggettabilità è uno dei problemi più grossi alcune regioni hanno tentato di farlo per tipologie di piani andando a prendere ecco la commissione europea aveva una linea è ribadito diciamo una linea che è quella che lo screening si fa caso per caso è difficile individuare delle tipologie di piani che non abbiano effetti sì un piano di lottizzazione però un piano di lottizzazione non ha effetti se tutte le cose che sono significative per l'ambiente sono state già decise a monte nel piano precedente altrimenti anche lui teoricamente va a basso ecco lo screening essendo così delicato ha una sua procedura ed è una procedura che coinvolge i soggetti con competenza ambientale sono quei soggetti pubblici che hanno delle competenze ambientali e che sono quelle in generale che danno le autorizzazioni di settore per l'ambiente per gli aspetti ambientali quindi le acque l'inquinamento atmosferico eccetera ma sono anche quelle che hanno appunto delle competenze tipo per esempio l'ARPA o un ente parco e così via allora cosa succede che l'autorità competente per la per la BAS deve necessariamente avviare un percorso di partecipazione di questi soggetti e questi soggetti devono analizzare un qualche documento una qualche documentazione che gli racconti come è fatto il piano che cosa può fare il piano più che come è fatto quali sono le cose che può decidere il piano quindi e poi l'altra cosa è che tipo di sensibilità ha il territorio sul quale vanno a finire questi piani e allora una volta che tu hai le azioni che può decidere il piano le sue potenzialità non sappiamo ancora che cosa decidere che cosa avrà dentro non è ancora elaborato eccetera ma potenzialmente può avere degli effetti e soprattutto ha al suo interno dei territori che sono particolarmente sensibili quindi rispetto a questi effetti allora i soggetti con competenze ambientali devono sostanzialmente dare questa risposta devono segnalare delle criticità e poi sulla base di queste segnalazioni di questa consultazione si decide se quel piano può essere escluso o no da bassa ecco ci sono pressioni enormi per escludere allora io vi faccio notare solo questa cosa ho scritto qui che quella che viene fuori alla fine è la proposta di esclusione che viene accettata o no e voi capite che sarebbe molto più ragionevole scrivere la proposta di assoggettabilità perché io guardo un piano per capire se sottoporlo o no a VAS ma se andate a vedere cosa fanno le regioni la chiamano quasi sempre nelle loro procedure proposta di esclusione e poi c'è stata un po' una deriva qual è la deriva? che la VAS è molto è una procedura complessa come vi dicevo si tenta di evitarla allora cosa fanno in molti casi cosa si fa in molti casi è si fa qualcosa di più che vi ho detto io si aumenta un pochino l'informazione che si dà nello screening cioè non si fa soltanto il potenziale del piano magari si comincia a indicare anche qualche linea di indirizzo qualche in modo tale che la verifica di assoggettabilità viene trasformata in una specie di VAS semplificata cioè l'idea è invece di andare a soggettare a VAS un piano che ha potenziali effetti sull'ambiente e allora dovrei assoggettarne molti beh un po' di questi in realtà io dico semplicemente che già dallo screening già dalla verifica di assoggettabilità ho una serie di informazioni che mi permettono di di dire però purché sti attento a questo purché non faccia questo eccetera e alla fine lo do in via libera senza VAS ma avendo introdotto diciamo questa sorta di verifica di valutazione se volete semplificare ecco questa cosa è totalmente fuori dalla direttiva dai decreti cioè non c'è o li modifichiamo e introduciamo una VAS semplificata oppure questa cosa è a rischio di ricorso perché non è prevista in questo momento quello che ho previsto è semplicemente la verifica di assoggettabilità se è assoggettabile deve andare a VAS e poi vediamo come fare la VAS ma non esiste questo livello intermedio che alcuni hanno tentato di introdurre vediamo alcune criticità nell'applicazione della VAS intanto la VAS rispetto al processo decisionale e guarda vi ricordate che noi abbiamo detto prima il processo per opere singole rispetto al processo operare all'approccio operare e abbiamo criticato l'approccio operare per scusate per progetti singoli per opere singole perché erano separate si considerano separatamente le singole opere e non il territorio nel suo complesso e guardate noi abbiamo introdotto un approccio operare facendo riferimento ai piani la VAS si riferisce ai piani ma i piani sono tanti e tanti piani insistono sullo stesso territorio voi avete in generale una filiera e un mosaico di piani su un certo territorio c'è il piano paesistico regionale c'è magari il piano provinciale ci sono i piani di settori regionali e provinciali ma poi ci sono i piani locali e anche lì c'è il piano regolatore il piano urbanistico ma poi c'è anche il piano dei rifiuti il piano delle cava e così e allora capite che se noi facciamo il rischio che abbiamo è che facendo ogni piano una VAS separata dalle altre perché ogni piano ha il suo assessore il suo gruppo tecnico i suoi consulenti e così via abbiamo un assurdo nel senso che intanto tante VAS ripetono le stesse cose perché c'è una parte per esempio di analisi del contesto una parte di verifica delle criticità che ci sono nel contesto territoriale una parte di obiettivi generali che vengono dall'alto da altri da piani sovraordinati c'è una parte di indicatori comuni ci sono tante parti che potrebbero essere messe in comune e che invece vengono ripetute e spesso contraddittorie perché ognuno le interpreta a modo suo e quindi queste VAS non sono nemmeno spesso coordinate tra di loro e allora il difetto che volevamo togliere alla via in realtà ce lo ritroviamo nella VAS allora uno dei tentativi di superamento è quello di proporre dei quadri strategici di riferimento cioè come la VAS fa da quadro alla valutazione di impatto ambientale quindi fornendole tutte quelle informazioni avete visto prima e qui noi abbiamo bisogno di un quadro strategico di riferimento su una base territoriale più ampia che dia alla VAS gli strumenti per permettere non solo di semplificarli ma anche di finalizzarla meglio cioè che la VAS si occupi di un certo piano di un certo territorio si occupi esattamente di quello perché si inserisce dentro un percorso dentro un quadro di riferimento che ha già sistemato alcuni degli aspetti c'è un problema di rapporto con le procedure via vinca eccetera perché ci sono delle parti che potrebbero essere sovrapponibili pensate con la via la parte iniziale preliminare della via con la parte invece finale della VAS perché la VAS dà una serie di raccomandazioni e così via che devono essere riprese dalla via bisogna vedere se le alternative strategiche in qualche modo vengono proposte dalla VAS e vengono riprese dalla via oppure in base a certi criteri vengono generate nella via e così via c'è un problema di rapporto di coordinamento diciamo tra le due poi ci sono anche problemi del fatto che sono strutture diverse perché la via è prescrittiva da una serie di prescrizioni mentre la VAS come avete visto tenta di arrivare a un parere a un rapporto condiviso con una serie di raccomandazioni e così via c'è il problema della vasta asfaltaliera ovviamente che si applica non solo come sembrerebbe dire il nome e quindi a voi riguarderebbe poco ai confini nazionali ma in realtà riguarda anche i confini comunali per esempio cosa succede tra un comune e l'altro oltre che tra un paese e l'altro tra una regione proveremo a vederlo più o meno il problema dell'illusione della vasta abbiamo già trattato il ruolo dei soggetti allora il ruolo dei soggetti è molto anche questo è molto critico ci sono nella vasta c'è un'autorità come ben sapete quindi ho evitato di entrare troppo nel merito in questi aspetti c'è un'autorità competente per la vasta e un'autorità precedente queste autorità devono collaborare tra di loro è molto importante la collaborazione e molto spesso invece tra queste due autorità non corre buon santo o perché l'autorità procedente è molto più forte dell'autorità competente o perché sono in conflitto tra di loro quindi c'è un problema da affrontare che è questo problema del rapporto tra i due e poi c'è tutta la plettora diciamo dei soggetti con competenze ambientali che dicevo prima che devono essere coinvolti ma devono essere coinvolti in modo da dare un apporto all'elaborazione del piano mentre loro hanno storicamente una cultura diversa che è quella del verificare i vincoli e poi c'è tutto il pubblico e anche questi vedremo un attimo quando parleremo di partecipazione c'è un problema di interazione tra piano e bass intanto tra il pianificatore e il valutatore sarebbe bene che fossero soggetti diversi chi pianifica anche dal punto di vista tecnico dei consulenti di chi pianifica e chi valuta a volte purtroppo è lo stesso soggetto e spesso la dialettica non c'è la dialettica non c'è o perché se è lo stesso soggetto e il pianificatore che valuta quindi senza porsi troppi problemi e criticità e quindi la valutazione in qualche modo è monca quando c'è la dialettica tra pianificatore e valutatore è spesso non sono sono ai ferri corti anche loro e quindi il pianificatore magari non dà le informazioni del valutatore tenta di dargliele soltanto a piano quasi fatto e quindi vanifica la possibilità di interagire con la fase di elaborazione e qui ci dovrebbe essere l'intervento da parte delle autorità competente e procedente per invece facilitare diciamo questa collaborazione c'è un problema anche di parere motivato e dichiarazione di sintesi perché mentre l'Europa dice chiaramente che il parere motivato deve essere preso c'è tutta una diatriba che non vi racconto ma si è arrivati a delle sentenze deve essere preso in considerazione ci deve essere una risposta nel merito da parte dell'autorità procedente e ci deve essere una modifica del piano che rispetti le istanze del parere motivato magari non fa esattamente le cose che erano chieste ma va in quel senso e giustifica che cosa ha fatto rispetto al parere motivato invece in Italia siccome il parere motivato non è prescrittivo molti enti ma anche a livello nazionale non so il ministero dell'economia e delle finanze o dello sviluppo economico rispetto al ministero dell'ambiente spesso i pareri motivati vengono disattesi e c'è questo problema del doppio passaggio tra adozione e approvazione sul quale non mi soffermo ma poi appunto possiamo discutere di quello che volete e vediamo dal punto di vista del contenuto del rapporto ambientale quali sono alcune criticità intanto la relazione col paesaggio perché la valutazione ambientale strategica come la valutazione di impatto ambientale in realtà io vi ho detto a un certo punto si avvicina a questo paradigma quello dell'approccio operare perché perché in realtà ha un approccio operare nel senso che va a guardare i piani ma poi all'interno ha ancora un approccio per componenti ambientali singole cioè va di nuovo un po' ridurre la complessità se volete e va a guardare singolarmente gli aspetti la qualità dell'aria il suolo eccetera poi è vero che alla fine dice considerate gli effetti cumulati eccetera però è una cosa che pochi fanno e pochi fanno seriamente soprattutto è una parte molto più qualitativa e poco esplorata c'è una disciplina che è quella del paesaggio che entra nella valutazione ambientale strategica come fosse una componente ma in realtà quando voi vi approcciate al paesaggio avete davvero un approccio per aree cioè il paesaggio cosa fa? va a definire una territorializzazione delle aree va a caratterizzare queste aree e così via e quindi non può essere considerato una componente è una parte essenziale dell'analisi territoriale della territorializzazione della caratterizzazione e poi si può scendere evidentemente a fare delle cose per componenti singoli eccetera e questa relazione tra paesaggio e se volete ambiente nella VAS non è ancora risolta e in questo momento ci sono comunque dei gruppi al lavoro anche al ministero c'è il problema degli scenari di riferimento posso interrompere un attimo anche per ravvivare un po' la discussione perché vedo che sono presenti molti colleghi però non ci sono interventi in chat mentre in realtà quello che stiamo affrontando è estremamente interessante come quadro complessivo e come spunti riguardo al paesaggio parecchi hanno la concezione di tipo delle superintendenze cioè il rapporto con determinati paesaggi bello brutto da tutelare da non tutelare in realtà il tentativo che stiamo facendo noi e qualche accenno c'è anche nel documento di indirizzo è considerare il paesaggio quasi come sinonimo di ecosistema perché l'approccio per ecosistemi l'approccio ecosistemico è un tentativo di considerare la complessità in particolare quando noi parliamo di analisi paesaggistiche intendiamo più che altro le analisi che sono state introdotte tramite l'ecologia del paesaggio che è un tentativo di far salire il livello delle analisi ecologiche da singolo singolo ecosistema e ha quindi determinati limiti confini in realtà in ecologica il limite il confine in altra sede comunque da considerare il paesaggio come un sistema di ecosistemi e quindi si studiano le forme di determinati ecosistemi che possono essere ad esempio delle foreste dei boschi ma anche addirittura la forma della città e le relazioni tra questi ecosistemi faccio questo accenno perché qualche indicazione l'abbiamo data proprio nel documento di indirizzo e nel giro di presentazione che abbiamo cominciato a fare prima del covid avevo mostrato le applicazioni pratiche abbastanza semplici peraltro attraverso le quali è possibile considerare la complessità del paesaggio e quindi chiudo un attimo questa parentesi invito i colleghi se qualcuno ha avuto degli spunti ha delle curiosità delle domande intanto prima di aprire la sessione delle domande magari di postare qualche intervento lì nella chat che è a disposizione in modo tale che almeno cominciamo a vedere le reazioni e capire di parte andare con la discussione grazie sì grazie ci vai esattamente in quella direzione per quanto riguarda il paesaggio sono completamente d'accordo però non è ancora interiorizzata nelle vasche che vedo oggi come non è interiorizzata nel decreto e nella direttiva dove invece il paesaggio è inteso proprio come una componente quindi questo è uno sviluppo che occorre fare e che è molto interessante è un secondo aspetto critico sono gli scenari di riferimento perché molto spesso si continua a valutare in base alla fotografia della situazione cioè gli scenari di riferimento che effettivamente sono problematici e difficili perché richiedono di inserire anche una discussione di tipo probabilistico no? per esempio rispetto al clima diceva prima Fulvio ma mi devo mettere nell'ottica che i cambiamenti climatici ci saranno ma mentre la fotografia della situazione attuale è certa qual è la probabilità che si verifichino alcune cose piuttosto che altre è molto incerto allora non so la cosa su cui di solito si esercitano di più da tempo gli urbanisti è lo scenario di riferimento per quanto riguarda la demografia no? e molto spesso questo ha portato a creare piani molto sovradimensionati diciamo dal punto di vista dell'edilizia proprio perché ognuno immaginava nel suo comune di attrarre molte persone però capite i comuni sono in concorrenza tra loro e quindi alla fine moltissimi non è solo non è solo per questo motivo che si è costruito tanto ma costruire uno scenario di riferimento che abbia un senso e rispetto appunto sia agli aspetti ambientali che agli aspetti sociali è una delle sfide cui dovrebbe dare una mano un po' quello che chiamavo prima il quadro di riferimento per le diverse masse poi ci sono il problema delle alternative qui ci sono due possibili accezioni delle alternative le vedremo poi quando parleremo di alternative l'alternativa di piano o le alternative all'interno del piano ma quello che noi rileviamo è comunque che le alternative non ci sono non perché non ci siano ma perché di solito i pianificatori e anche il livello politico diciamo non gradiscono spesso le alternative quindi magari se voi andate a interrogarli e dicono perché hanno scelto una certa cosa e voi gli chiedete ma come mai avete scelto questa e magari dicono perché quell'altra non andava bene perché questa invece aveva dei problemi eccetera però tutto questo percorso con cui sono arrivati alla decisione non viene reso evidente e quindi non c'è la possibilità di interagire e di capire i motivi reali delle scelte le alternative che c'erano e magari nel corso della pianificazione di proporre da parte di chi partecipa quindi questa parte delle alternative nelle vase che vediamo in giro è estremamente critica ovviamente l'avevo già accennato prima gli effetti cumulati anche qui è una cosa che non si faceva e quindi che si introduce nella vase e che prima della via non c'era e anche qui ci sono delle cose qualitative ma diciamo si riescono a fare solo per alcuni aspetti non so pensate per esempio le emissioni allora certo siccome c'è un inventario delle emissioni ci sono le emissioni cumulate sul territorio a volte ma su altre cose si è molto più indietro e c'è una sfida proprio per riuscire ad affrontare i problemi c'è il problema della progettazione del monitoraggio progettazione e realizzazione del monitoraggio ma perché spesso la progettazione del monitoraggio si riduce a produrre un elenco di indicatori quindi voi avete lì un elenco di indicatori che resta lì e evidentemente non è di nessuna utilità la progettazione del monitoraggio anche questo lo vedremo e ben altre cose e poi c'è il problema della sintesi non tecnica e voi sapete che il rapporto ambientale deve essere accompagnato da una sintesi non tecnica e spesso questa sintesi non tecnica è scritta in linguaggio tecnico e quindi risulta incomprensibile è troppo lunga perché vuole essere esaustiva di tutto ciò che c'è nel rapporto ambientale anche su questo c'è una grossa discussione a volte viene scritta in linguaggio non tecnico ma allora e però a volte non contiene gli effetti cioè la sintesi non tecnica dovrebbe mettere in luce le criticità in modo evidente e in modo chiaro comprensibile a tutti è chiaro che se le annega dentro 200 pagine invece delle 600 magari del rapporto ambientale non serve ed è chiaro che se invece è molto generica e non mette in luce queste criticità anche se è comprensibile non dà nessun contributo quindi anche questo è un aspetto fortemente in discussione su come dare delle linee guida molto precise anche a livello nazionale sulla sintesi non tecnica e poi ci sono le difficoltà e le critiche i problemi nell'attuazione e nel monitoraggio il monitoraggio io dico sempre che è un'area felice nel senso che io nella grande maggioranza dei piani che vedo magari c'è il capitolo monitoraggio perché è obbligatorio ma poi una volta finito il piano una volta approvato il piano muore tutto lì resta con l'elenco di indicatori e il monitoraggio non c'è quando c'è è un monitoraggio del tutto insoddisfacente questo è un problema che non abbiamo solo noi in Italia è un problema a livello europeo quello del monitoraggio e anche questo diciamo lo affronteremo lo affronteremo nella parte più tecnica e poi ovviamente c'è un tempo i costi della VAS contro cui tutti si scagliano più della VIR ma anche della VAS e però capite che alcune delle cose che vedremo il quadro del riferimento la possibilità di unificare alcune cose di mirare di più la VAS fare una partecipazione seria cioè sono nell'ottica se volete non tanto di semplificare perché semplificare ha spesso un'accezione che è quella di banalizzare cioè voi semplificate quando tagliate i tempi quando dite non si deve più fare la VAS di quel piano di cui si deve fare senza attivare la partecipazione in quella oppure eccetera eccetera quella è una banalizzazione non è una semplificazione perché quello toglie allo strumento la possibilità di svolgere il proprio compito vi ricordate la governance in realtà quello di cui abbiamo bisogno è il governo della complessità dobbiamo imparare a governare la complessità facendo in modo che gli strumenti non siano ridondanti ripetitivi costosi perché appunto non hanno le informazioni giuste e devono ripetere tutta una serie di fasi che la partecipazione sia ben orientata in modo anche quella da non essere ripetitiva cioè rendere più efficiente in realtà ed efficace tutto il processo ma senza perdere capacità di incidere qui io avevo alcune slide che erano di considerazione che forse possiamo possiamo saltare ve le lascio lì perché la maggior parte di queste le abbiamo le abbiamo già viste parlando c'è una cosa sui piani che volevo dire il rapporto con i piani che abbiamo appena accennato e guardate purtroppo la VAS è la VAS del piano in particolare dei piani urbanistici in questo caso per la mia slide e il problema è che i piani sono cambiati e i piani oggi forse anche in parte per evitare i problemi della VAS e forse perché appunto le cose cambiano nel tempo anche le esigenze i territori si riflette sulle cose ma i piani sono sempre più dei piani che ratificano decisioni prese altrove cioè si fanno accordi di programma si fanno tutta una serie di scelte e poi il piano tende semplicemente a ratificarli e quindi capisce per la VAS entrare a elaborare il piano mettendo contenuti ambientali su scelte che appaiono già prese nel momento in cui si elabora il piano diventa difficile il piano spesso non accetta di mettere in discussione le proprie scelte a volte i piani invece hanno una tendenza opposta cioè i piani diventano evanescenti in qualche modo e rimandano tutte le scelte alla fase attuativa o alla programmazione negoziale cioè dei piani diventano soltanto piani di indirizzo non fanno loro le scelte allora lì è molto importante che si discuta dei criteri e degli indirizzi che si danno per la fase attuativa anche quelli in termini di alternative eccetera di VAS mentre questo ovviamente non è non è nelle corde diciamo di chi fa i piani e fa le VAS poi spesso si governa per varianti invece che per pianti quindi uno fa un piano contiene tutta una serie di opere eccetera che si sa che non verranno realizzate perché sono troppe perché costano troppo eccetera eccetera e poi parte la fase attuativa e la fase attuativa vive di varianti ogni tanto si presenta qualche altro progetto si inserisce nel piano ma in modo non coordinato tra le diverse varianti ogni volta una e di nuovo c'è un approccio opera per opera che spesso stravolge il piano allora io sintetizzo tutta questa cosa con una frase che uso spesso che dice stiamo rischiando di passare nel tempo da un piano che era senza valutazione ambientale strategica a una valutazione ambientale strategica che è senza il piano e quindi capite se la valutazione ambientale strategica non ha da confrontarsi con un piano vero diventa estremamente problematica allora diventa estremamente importante la cosa che dicevo all'inizio cioè che la vasta non sia solo difensiva ma porti all'interno del piano le sue proposte e sia in grado di confrontarle diciamo con le proposte che arrivano da altri soggetti da altri da altre dimensioni poi volevo ancora due cose la dimensione temporale vedete il piano tende a diventare ma deve diventare un piano processo perché non è più possibile oggi che ci sia un piano pensate una volta si faceva il piano oggi si chiama della mobilità allora era il piano delle strade semplicemente si faceva il piano dei trasporti e il piano dei trasporti poi prevedeva tutta una serie di opere e restava magari in vigore per vent'anni alla fine di quei vent'anni se andate a vedere cosa era successo magari un 5-10% delle opere previste era stato realizzato e ne erano state realizzate un sacco che allora non erano state previste ma perché il territorio cambia le esigenze cambiano non è pensabile un piano che faccia una fotografia e si fermi su quello e allora si tende sempre di più ad avere un piano processo cioè un piano che via via si attua nel tempo e l'attuazione fa parte integrante anche del piano ma capite anche la base allora deve vivere lungo tutto l'arco di vita del piano attraverso tutta la sua attuazione poi c'è quindi c'è un problema di aggiornamento e di riorientamento periodico e tutto questo anche per questo io ho una parola chiave per questa dimensione temporale del perché si deve fare il piano processo eccetera ed è la resilienza e l'adattamento del piano e della VAS in una situazione in un contesto in un ambiente in un territorio in un contesto anche sociale che diventa estremamente variabile nel tempo allora già allora non andava bene fare il piano fotografia il piano statico figuratevi adesso per quanto noi ci sforziamo di prevedere lo scenario di riferimento poi dobbiamo necessariamente adattarci a quello che succede lungo il tempo l'importante è che ci siano degli obiettivi ben chiari che ci siano degli indirizzi dei criteri ben chiari alla luce dei quali valutare ed analizzare le situazioni nuove che si presentano e poi c'è una dimensione spaziale che è molto importante perché la cosa principale che vorrevo dire è che è totalmente inadeguato il comune come sede diciamo del piano urbanistico e della base è ormai inadeguato perché perché tutti gli insediamenti sul territorio e tutte le attività sul territorio e tutto anche il territorio naturale ha dei confini che non corrispondono mai ai confini naturali di un comune che di solito o stanno all'interno di un comune sono una porzione o stanno su un ambito sovracomunale cioè interessano molti comuni e allora capite che le politiche per governare quegli elementi devono essere politiche che tengono conto del loro se c'è un distretto industriale o se c'è un bacino di un fiume o se c'è un'area agricola diciamo di un certo tipo noi dobbiamo avere quelli come territori di riferimento per le politiche ovviamente sull'agricoltura piuttosto che sugli altri aspetti e allora è molto importante la dimensione spaziale e dall'esperienza il singolo comune non ha la possibilità di applicare le politiche ovviamente a territori più ampi ma non ha neanche la possibilità di analizzare di darsi delle strategie e così via che non possono essere conflittuali con quelle di altri comuni e così via allora c'è questo problema che di nuovo dovrebbe risolvere il quadro di riferimento il quale potrebbe aiutare a risolvere altri problemi quindi non solo la base di conoscenza comune i processi partecipativi che in parte possono essere comuni gli obiettivi di interno eccetera ma potrebbe risolvere anche il problema dell'autorità competente perché molto spesso nei singoli comuni almeno io lo vedo nei piccoli comuni di alcune regioni che hanno delegato all'autorità competente locale la VAS ecco l'autorità competente a livello di comune di piccolo e comune spesso non è in grado di svolgere il suo ruolo non si riesce a trovare la competenza giusta e soprattutto l'autorevolezza all'interno del comune piccolo d'altra parte dicono queste regioni ma ha ragione essendo molti i comuni ed essendo piccoli i comuni noi non riusciamo a centralizzare l'autorità competente a livello provinciale o regionale perché sarebbe questa autorità troppo lontana dai territori per riuscire a entrare davvero e a gestire davvero il processo di dialogo di collaborazione con l'autorità procedente nel costruire il piano di gestione della partecipazione e così via l'autorità competente diventa a quel punto una funzione soltanto quasi di controllo di verifica di coerenza cioè prende i rapporti sviluppati dai singoli comuni e in qualche modo dà dei giudizi dei pareri chiede delle modifiche eccetera eccetera ma non è questo il suo ruolo dovrebbe essere molto più ampio e allora capite è un problema difficile mentre nelle regioni si riesce ad avere delle autorità competenti di un certo peso di una certa competenza che quindi riescono a far fronte ai loro compiti nei piccoli comuni anche nei grandi comuni ci si riesce a volte nei piccoli comuni è difficilissimo allora una proposta che si fa è quella di nominare delle autorità competenti su un livello territoriale su un ambito territoriale sovracomunale più ampio che comprenda diversi comuni quindi in qualche modo attraverso ovviamente una condivisione con i comuni i comuni in modo condiviso decidono un'autorità competente che però vale per un ambito territoriale più ampio ma non così ampio come la regione o la provincia quindi anche questo è un dibattito diciamo che è in atto allora avere tutti questi quadri di riferimento di cui parlavo e adesso ci arriviamo vuol dire articolare una strategia a livello territoriale fino a livello di questi ambiti sovracomunali sui quali dovrebbe svolgere una serie di compiti della VAS quelli che possono essere comuni diciamo condivisi tra più comuni semplificando sì questa volta ma liberando risorse per fare la VAS in modo più serio allora qual è il ruolo del quadro di riferimento il ruolo del quadro di riferimento è vado vado qui un po' veloce perché poi lo forse lo rivedremo comunque è di fare un'analisi delle tematiche ambientali sul territorio che considera quindi può essere a livello nazionale l'Italia ma può essere a livello di un ambito sovracomunale dieci comuni allora fa un'analisi per tematiche ambientali quindi mette in evidenza criticità opportunità principali indicazioni derivanti da piani e programmi sovraordinati scenari di riferimento per quell'area poi gli obiettivi di sostenibilità ambientale quindi quelli prioritari per quell'ambito tra tutti quelli prodotti diciamo dalle strategie e così via e ulteriori punti di attenzione diciamo specifici mettendo in luce appunto punti di attenzione specifici per singole aree nell'ambito dell'ambito all'interno dell'ambito poi le possibili tipologie di intervento che ci possono essere in quel in quell'ambito quindi che cosa favorire e che cosa evitare per raggiungere gli obiettivi e poi per queste tipologie di azioni che sono prevedibili nell'ambito i potenziali effetti positivi e negativi e gli strumenti attuativi il quadro di riferimento può dare indicazioni per l'attuazione dei piani quindi criteri ambientali per l'attuazione e progettazione di un sistema di monitoraggio integrato può dare elementi per l'organizzazione dei processi di partecipazione e poi entriremo un po' nel merito degli strumenti ma modalità per il coinvolgimento sia a livello condiviso di ambito sia poi nelle singole realtà e poi la base di conoscenza quindi e il capacity di business cioè gli strumenti conoscitivi gli strumenti per il potenziamento delle capacità locali diciamo programmatiche e progettuali e nella base di conoscenza ovviamente il nucleo di indicatori che è necessario diciamo per gli indicatori comuni che vengono proposti a quel livello a quella scala diciamo per i diversi piani ecco 5 minuti per dire in che modo si sta cercando di arrivare a costruire questi quadri di riferimento nel 2015 è stata approvata in sede ONU l'agenda 2030 ve la lascio per documentazione non non mi dilungo ci sono 5 principi chiare vedete universalità non lasciare nessuno indietro indivisibilità degli obiettivi inclusività inclusività dal punto di vista anche sociale e partnership nel senso di collaborazione tra territori diversi il cuore dell'agenda 2030 ha 5 dimensioni critiche che sono le 5P le persone dove c'è le persone la prosperità il pianeta la partnership e la pace ecco rispetto alla sostenibilità come la conosciamo noi c'è dentro tutta la parte sociale che sta a cavallo tra persone e prosperità poi c'è tutta la parte ambientale in particolare il pianeta e poi la salute sta nelle persone e così via e poi c'è tutta una parte nuova che sono la pace e la partnership che sono state interpretate soprattutto a livello internazionale ma hanno un grosso significato se riprese anche a livello nazionale è articolata così a una serie di obiettivi di goal si chiamano che sono 17 e vedete che vanno appunto da sconfiggere la povertà alla parità di genere ma poi alla vita sott'acqua o alla vita sulla terra che contengono molti degli aspetti ambientali di biodiversità e così via eccetera questo per esempio è il goal sconfiggere la povertà i goal cioè questi obiettivi sono accompagnati da dei target i target hanno la caratteristica anche questa è una cosa importante che riprenderemo nella VAS i target hanno la caratteristica di dare un tempo per la realizzazione dell'obiettivo e di dare quando possibile anche una quantificazione allora vedete entro il 2030 eliminare la povertà estrema intesa come quella eccetera eccetera sotto l'1,25 dollari il reddito sotto l'1,25 dollari al giorno vedete questo è un target mentre un obiettivo è migliorare fare aumentare il PIL o migliorare l'eguaglianza tra i soggetti invece un target è un qualche cosa che tendenzialmente da una quantificazione dell'obiettivo e un tempo per la sua realizzazione non sempre il target ha queste caratteristiche ma siamo quelli che la gran maggioranza le hanno da questa agenda 2030 che è stata poi recepita dall'Europa si passa alla elaborazione di strategie nazionali e regionali per lo sviluppo sostenibile allora è stata elaborata nel 2017 la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile anche questa ha le cinque dimensioni chiave vedete persone pianeta eccetera all'interno di queste ha degli obiettivi ha delle scelte strategiche quindi vedete l'area persone ha tre scelte strategiche contrastare la povertà garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano promuovere la salute e il benessere poi ovviamente promuovere la salute e il benessere vedrete che c'è l'esposizione agli inquinamenti e così via poi c'è l'area pianeta e così via prosperità pace e l'ultima partnership che a differenza delle altre non ha delle scelte strategiche ma un elenco di tematiche la strategia nazionale accompagna questi obiettivi che abbiamo visto con dei vettori di sostenibilità quindi abbiamo cinque vettori di sostenibilità che vorrebbero essere un po' gli strumenti su cui agire per ottenere i risultati che ci siamo prefissi quindi come facciamo a ottenere quei risultati certo si può agire direttamente su quegli indicatori su quegli obiettivi su quelle cose però dobbiamo agire sulla conoscenza comune sull'implementazione delle capacità diciamo di monitoraggio e creare un sistema di monitoraggio integrato della strategia che vada fino alle regioni e ai comuni garantire la capacità il capacity building se volete e la capacità di interagire tra loro la governance delle istituzioni della partecipazione dei perteneriati l'educazione la sensibilizzazione la comunicazione e la modernizzazione della pubblica amministrazione e riqualificazione diciamo della spesa ecco questi sono i cinque vettori di sostenibilità che hanno degli obiettivi trasversali cioè come agire su questi perché migliorando queste cose agendo su queste siamo poi in grado vi ricordate la governance ci mettiamo in grado capaci di svolgere responsabilmente il nostro ruolo ci sono degli obiettivi strategici della strategia nazionale quindi ogni scelta strategica ha degli obiettivi qui vedete per esempio gli obiettivi della scelta strategica 1 dell'area persone però la strategia non ha i target mancano nella strategia nazionale i target se volete un pettegolezzo perché è stato messo il veto a introdurli quindi mancano i target si tenteranno di introdurre nella revisione che si sta facendo attualmente e mancano nel documento della strategia mancano gli indicatori ecco c'è stato invece un lavoro c'è stato a questo punto un lavoro del ministero per definire gli indicatori una serie di indicatori e c'è un tavolo indicatori e l'istat sostanzialmente ha proposto di inserire una serie di indicatori sono 43 indicatori non ce li ho ovviamente tutti si prende quindi ogni obiettivo ha una serie di indicatori ma in questa fase c'è questo vincolo gli indicatori sono solo gli indicatori che l'istat aveva assegnato agli obiettivi dell'agenda 20-30 ai target scusate soprattutto dell'agenda 20-30 erano 43 indicatori si sono presi questi 43 indicatori e in qualche modo si è tentato di assegnarli agli obiettivi della strategia nazionale il risultato è del tutto insoddisfacente nel senso che alcuni obiettivi sono coperti da indicatori significativi altri obiettivi invece sono rimasti o totalmente senza indicatori significativi perché le fonti sono altre o coperte da indicatori non significativi perché è l'obiettivo almeno non abbastanza allora c'è in atto in questo momento c'è questo documento ovviamente dei 43 indicatori e c'è in atto una revisione di questi indicatori proposti appunto a livello nazionale ma proposti in condivisione è un tavolo condiviso con le regioni quindi con i contributi delle regioni eccetera e c'è in questo momento un tentativo di arricchire questi indicatori inserendo invece una serie di indicatori proposti dalle regioni o a livello nazionale ma derivanti anche da altri fonti che sposano meglio se volete gli obiettivi soprattutto gli obiettivi di ammendare allora nel giro di poco tempo questo documento sarà disponibile e vedete che cominciamo a delineare un quadro strategico almeno a livello nazionale le regioni a questo punto adottano le loro strategie contestualizzano usano ovviamente gli indicatori che vogliono ma tra questi ci devono essere anche quelli che colloquiano con livello nazionale ma e poi sarebbe importante che le strategie regionali o attraverso i piani tipo il piano paesistico o il piano territoriale o direttamente effettuino una territorializzazione cioè individuino insiemi di comuni parti del territorio che sono omogenee dal punto di vista di alcune tematiche e rispetto alle quali costruire un quadro di riferimento che come abbiamo detto prima renda fattibile la base il monitoraggio eccetera per i singoli comuni ecco io forse mi fermerei qui vedendo se appunto c'è qualche intervento da parte nostra se qualcuno è sopravvissuto e se c'è ancora qualcuno grazie al professor Blaniato è stata un'introduzione a largo raggio e ha chiarito moltissimi aspetti che sono collegati sono quasi tutti tecnici dei comuni delle Marche spero che qualcuno abbia qualche domanda perché questa è l'occasione per entrare sempre di più nell'argomento e ad avere dei chiarimenti potete anche scrivere in chat senza intervenire in voce grazie mentre qualcuno decide di intervenire vi aggiorno sul lavoro che stiamo facendo in regione per quanto riguarda il cambiamento climatico vorremmo riuscire ad avere un piano clima scusa Fulvio mi prometto io io penso che loro possano interagire solo su chat non so se hanno la possibilità di aprire i microfoni no allora loro hanno la possibilità di alzare la mano e poi apro il microfono della persona che alza la mano perfetto grazie Laura Fulvio se vuoi continuare scusa l'interruzione vuoi continuare sì aspettavo che servisse qualcuno comunque sono degli aggiornamenti brevissimi del lavoro che stiamo facendo in regione che dovrebbe essere anzi sarà sicuramente di ausilio e di supporto per i comuni in particolare stiamo cercando di capire sul territorio le conseguenze del cambiamento climatico ma lo tale da offrire un quadro di riferimento almeno da questo punto di vista aggiornato e utile per le VAS ma in generale per tutto quello che riguarda la pianificazione e programmazione a livello locale in più come diceva il professor Laniado stiamo lavorando a un set di indicatori che dovrebbero essere indicatori VAS barra strategia cioè a partire dai tre indicatori stabiliti a livello nazionale ai quali che comunque dovremmo recepire e popolare anche per contribuire con la strategia regionale e nazionale inseriremo altri indicatori tipici del nostro territorio per comprendere per effettuare il piano di monitoraggio dei programmi delle marche in più ancora un altro accenno questo non lo abbiamo inserito per il momento nel documento di indirizzo ma è una possibilità di effettuare delle analisi territoriali tramite il sistema operativo e sistemi informativi territoriali uno di voi sicuramente conoscerà il QGIS l'ARPA Umbria e l'università di Perugia hanno messo a punto già la terza generazione di un plug-in cioè di un programmino che si scarica direttamente dalla QGIS attraverso il quale è possibile valutare la sostenibilità di un piano programma lavorando sia sui sui dati territoriali sia su quelli sociali economici generale quindi si ha si può fare un confronto tra diverse alternative all'interno di questo questo plug-in c'è l'algoritmo TOPSIS se qualcuno è curioso può andare a vedere in bibliografia di cosa si tratta questo sicuramente il professor avrebbe molto da dire però adesso penso che sia il caso che qualcuno di voi chieda insomma penso forse l'argomento sul quale parecchi di voi potrebbero essere interessati è lo screening lo screening di BAS il 90 e oltre circa il 95% dei procedimenti di BAS che si svolgono in regione consistono appunto nella verifica di assoggettabilità BAS con o senza prescrizioni quindi penso che su questo argomento ci sia abbastanza da discutere in regione di BAS che si trovi in regione che si tratta di BAS di BAS di BAS per che si tratta No, nessun intervento. Abbiamo una mano alzata di Silvia Vittorina. Silvia, puoi aprire il tuo microfono adesso. Mi sentite? Sì. Ah, perfetto. Sono Soragna Silvia. Io lavoro per il Parco Interregionale del Stasso Simone Simoncello, quindi non mi occupo direttamente di VAS, però condivido molto tutto quello che è stato detto, tra l'altro ragionamenti veramente di alto profilo rispetto a quello che spesso magari abbiamo noi modo di confrontarci, ma volevo fare solo una domanda. Siccome io mi occupo più da vicino di valutazione di incidenza, in quanto il nostro Parco rientra in un'area anche a SIT e ZPS, insomma nell'ambito di Rete Natura 2000, e ho visto che a un certo punto in una slide era indicata come criticità questo fatto che la vinca rientri nel processo di VAS. Siccome c'è anche fra l'altro in corso un'importante revisione di tutta la procedura di valutazione di incidenza legata alle nuove linee guida nazionali che sono uscite poco tempo fa, insomma un anno fa circa, e che adesso anche le regioni appunto sono in corso di recepimento. E effettivamente anche in queste linee guida nazionali ho notato l'analogia, insomma con quanto lei ha detto riguardo la procedura di VAS, che si tende a incentrare la procedura come un processo, non tanto appunto la valutare un progetto e poi dire sì o no, mettere solo dei vincoli e delle prescrizioni, ma inserire anche la valutazione di incidenza nell'ambito di un procedimento che diventi un processo diciamo analitico, un processo di formazione insomma anche attraverso il rapporto con il pubblico per arrivare poi alla soluzione migliore e quindi anche più sostenibile. Mi domandavo se questa cosa può rientrare, come può rientrare nell'ambito della VAS quando appunto si analizzano delle valutazioni di incidenza che rientrano nell'ambito di tale procedura e quindi insomma avere un po' la sua opinione in merito. E poi un'altra considerazione invece che mi è venuto da fare, da pensare, è che effettivamente questa cosa del sistema rete è perfetto, cioè è molto più diciamo così, sicuramente comporta un approccio molto più corretto anche diciamo nei confronti della società in generale, sebbene però ecco quello che io volevo capire la sua opinione riguardo appunto questo invece questo atteggiamento che io stesso verifico di de-responsabilizzazione, cioè più che come si riflette anche nella modalità di elaborazione sia dei piani ma anche dei progetti talvolta, cioè ho l'impressione che non siamo più capaci di prendere delle decisioni, di prenderci delle responsabilità effettive, ma si tende appunto a prendere delle decisioni evasive, un po' evanescenti come lei diceva, come se questa strada fosse poi alla fine la migliore, perché ci consente poi di agire come ci pare senza prenderci delle effettive responsabilità. Io ho notato spesso questa cosa anche nei progetti, cioè non vengono più affruttate veramente le cose che vengono fatte, si tende a rimanere molto nel pago e anche se si chiedono dei chiarimenti, delle argomentazioni in merito per capire meglio quando e quanto vada a incidere un piano o un progetto su una determinata realtà ambientale, la risposta non arriva. Questo insomma lo trovo un po' drammatico. Grazie. Sì, sono due questioni centrali. Allora, sul rapporto con la valutazione di incidenza, storicamente è stato un grossissimo problema, perché mentre la valutazione di incidenza somiglia più, se volete, scusatemi questa cosa, alla via, nel senso che la valutazione di incidenza prende in considerazione un'opera e gli dà delle prescrizioni. Quindi come tipo di procedimento è un procedimento autorizzativo. mentre la VAS, come abbiamo visto, non lo è. Allora, il problema del rapporto con la valutazione di incidenza deriva, uno, da questo. dal fatto che la valutazione di incidenza è un approccio per opere, dal fatto che è prescrittiva, in qualche modo, autorizzativa e prescrittiva, e quindi si scontra col modo di essere, se volete, della VAS. la VAS dà dei pareri, dà delle osservazioni, eccetera, dà dei suggerimenti, e si ritrova però una cosa prescrittiva che entra, ma poi non riesce. Nella VAS, sì, è obbligatorio fare la vinca, perché sono considerati, ci sono all'interno della VAS, del piano, una serie di aree di natura lumina. E va bene, però, voi non avete l'opera precisa nella VAS. Cioè, voi sapete che passerete da qualche parte con una strada che può essere vicina a quell'area lì, che farete un'opera chissà dove, che potrebbe interferire con. E allora, la modalità di approccio della valutazione di incidenza, diventa difficile da applicare nella VAS. Allora, di solito, cosa ho visto fare? Quando il progetto è abbastanza delineato, perché magari si è in un piano locale, si è in un piano, e quindi si hanno anche una serie di elementi, si fa quasi una vinca classica. Ma quando si è in un piano, giustamente, come dice lei, evasivo, evanescente, o comunque in un piano anche serio, ma in cui ovviamente le opere non sono ancora perfettamente connotate, localizzate, eccetera, se no sarebbe un'altra cosa, allora, quello che si tende a fare è dare dei criteri, sostanzialmente. cioè fare una valutazione di incidenza in cui si esamina la situazione, si mette in evidenza quali sono le cose da andare a guardare su quell'area, quali sono le specie, quali sono gli interventi interni, eccetera, e poi però si dice con quali criteri si deve valutare qualcosa di esterno, quindi quali sono le cose da considerare, che sono il rumore piuttosto che l'invasione, eccetera, eccetera, il rischio, eccetera, e si danno dei criteri e la valutazione di incidenza diventa questo, diventa come se fosse una valutazione di incidenza a livello di piano che poi rimanda a un secondo momento a una valutazione di incidenza delle singole opere, vere e proprie. Questa è una difficoltà perché o viene normato in modo diverso in tutto, creando un processo anche per la valutazione di incidenza o altrimenti è difficile far coesistere due procedure che sono abbastanza diverse. Quindi ho visto sempre molta difficoltà a introdurre la vinca diciamo nei piani. Invece per quanto riguarda l'altro aspetto sì, il problema vero l'ha affrontato un po' la regione Emilia-Romagna che ha che ha approvato una nuova legge diciamo per la pianificazione territoriale e quindi anche per i piani urbanistici la quale ha proprio deciso formalmente che i piani diventano solo dei piani che danno una strategia un indirizzo dei criteri e così via e che poi invece le cose da fare le opere gli interventi eccetera possono essere decisi nel corso dell'attuazione ma a condizione di utilizzare gli strumenti decisionali per esempio l'analisi a molti criteri con i criteri definiti a livello di piano gli obiettivi ovviamente del piano gli strumenti di attuazione come il tipo di partecipazione cioè il piano dà tutta una serie di paletti all'interno dei quali ci si deve muovere nel momento in cui si realizza qualche cosa allora vuol dire che quello che si tenta di fare è colmare il divario tra il momento del piano che è sottoposto a VAS a critiche eccetera e il momento successivo dove a meno che sia sottoposto a via si può fare qualunque cosa no? il problema è davvero quello di legare i due momenti perché altrimenti c'è il fenomeno che dice lei la deresponsabilizzazione totale cioè uno fa un piano in cui mette indirizzi criteri eccetera e poi le cose vanno avanti per conto loro nel solito modo e ce ne laviamo un po' le mani ecco il problema è che questo tipo di approccio che tra l'altro io ho contribuito a creare ho scritto delle idee guida per quei piani però questo tipo di approccio ha una difficoltà enorme e rischia un grosso fallimento perché la difficoltà è quella di avere un'amministrazione pubblica a livello locale che è in grado di portare avanti i processi decisionali che attuano il piano perché capite in questo momento noi abbiamo depotenziato moltissimo le amministrazioni che le abbiamo hanno poco personale spesso le competenze tecniche sono uscite e sono andate a finire da altre parti quindi hanno anche poche competenze tecniche non hanno probabilmente la forza di reggere l'urto magari degli interessi che sono sul territorio eccetera e di integrarsi nella progettazione per riuscire effettivamente a stare nei binari dettati dal piano quindi la scommessa in quel caso lì è proprio quello che noi chiamiamo il capacity building cioè il fatto di potenziare molto le amministrazioni pubbliche anche a livello locale in modo che siano in grado di gestire dei processi decisionali di partecipazione e così via nell'alveo degli indirizzi che adatta il piano altrimenti questo tipo di sistema non può funzionare di un'alveo di un'alveo di un'alveo di un'alveo ne approfitto magari intanto che qualcun altro decide di alzare la mano per anticipare invece cosa succederà domani domani scendiamo di scala quindi invece di affrontare i problemi generali all'interno della quale si colloca la VAS e i problemi della VAS affrontiamo proprio il percorso della VAS quindi domani vediamo proprio partiamo con la partecipazione e poi vediamo via via tutti i passi che sono necessari per elaborare e poi per attuare la VAS e il piano e quindi li vediamo un po' dal punto di vista metodologico io direi che se non ci sono domande possiamo anche chiudere comunque nel caso in cui avessero bisogno ecco di tempo per formulare domande possono magari inviarcele per mail a formazione punto enti locali chiocciolaregione punto marchi punto it e le leggiamo eventualmente domani inizio lezione domani l'orario è sempre 9 12 30 ecco scusate io oggi mando le slide quindi non so se potete poi condividerle sì nel pomeriggio all'ora dopo le condivido con i partecipanti sì io vado subito le leggere le cose puoi ripetere la mail a cui mandare le domande sì le mail è formazione punto enti locali chiocciolaregione punto marchi punto it va bene io allora ci salutiamo ringraziamo il professor eliot e ci vediamo domani mattina a domani a domani torno a tutti